Buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nominio scrutatori per la seduta. I consiglieri. Giulia Bevilacqua. Giuseppe Pedicini. E Bruno Piva. Risultano assenti i consiglieri Mauro Tavella e Michele Quaia. Arriveranno in ritardo i consiglieri Sonia Daniello, Orsola Chiaradia. No, Sonia Daniello l'ho vista, di la verità. Sì, allora è già arrivata. Orsola Chiaradia e Matteo Loro. Assente. Assente. Comunico al Consiglio che se sia l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente ha messo a disposizione i consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in salita consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio in riferimento all'articolo 67 del regolamento del Consiglio Comunale che è stata fornita risposta alle seguenti interrogazioni e risposta scritta. Interrogazione numero 3 del 2016 presentata dai consiglieri Alessandro Sperotto e Francesca Cardin avente ad oggetto pericolosità dei passaggi pedonali in prossimità della rotonda di Piazzale Duca d'Aosta. Interrogazione numero 4 del 2016 presentata dai consiglieri Alessandro Sperotto, Vito Palmisano, Giovanni Delben e Daniello Sonia avente ad oggetto qualità dell'area nei giorni successivi all'accensione dei fuochi epifanici. Do subito la parola al signor Sindaco per le comunicazioni. Prego signor Sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti voi. Prima di partire con i nostri lavori volevo condividere con voi un breve ricordo di Albano Testa. Credo ci siamo visti oggi pomeriggio al suo funerale più di qualcuno di noi era lì presente. Albano Testa è stata una grande presenza nella nostra città, ha avuto ruoli istituzionali, voi sapete ha lavorato in fiera come direttore per lungo tempo, ha terminato la sua attività nel 2004 ma è stato pur sempre uno degli animatori delle grandi manifestazioni che ancora oggi caratterizzano la nostra fiera ma era una persona che dal punto di vista dell'impegno civico non smetteva mai per cui oltre al lavoro il suo impegno nella comunità di Borgo Meduna è stato costante, è stato quello che è stato ricordato anche durante il suo funerale, è stato un animatore che ha iniziato i festeggiamenti di Borgo Meduna visti come un momento di aggregazione evidentemente della comunità locale di Borgo Meduna ha lavorato e ha dato il suo tempo all'AIFA, un'altra associazione che insomma ha visto in lui qualcuno che ha veramente speso il suo tempo e la sua determinazione per la nostra città e per le persone più deboli e poi sapete bene apparteneva alla grande famiglia degli alpini animatore del coro Monte Cavallo che aveva portato al livello attuale quindi ha speso veramente la sua passione per questo e quindi oggi proprio durante il funerale la presenza di questo coro e non solo di questo coro perché era allargato in realtà la presenza anche degli altri cori della nostra provincia ha dato il momento e ha dato il senso della vicinanza di tutti noi alla famiglia alla moglie, ai due figli, ai nipoti, una splendida tribù che era tutta presente e penso che anche noi un segno, un momento di condivisione per ricordare Albano Testa e quello che ha fatto per la nostra città possa starci tutto. Quindi Presidente, se possiamo fare un minuto? Sì, senz'altro, invito il Consiglio a servare un minuto di cinque. Vi ringrazio. Prego signor Sindaco per le altre comunicazioni. Bene, seconda comunicazione è una comunicazione relativa al prelievo dal fondo di riserva che abbiamo effettuato con deliberazione della Giunta Comunale numero 5 del 22 gennaio 2016 riguarda ovviamente prelievo dal fondo di riserva per spese urgenti e indifferibili. Allora, di che cosa si parla in questa delibera? In tutto il prelievo vale 61.062,68 euro ed è così costituito. 21.000 euro sono per un anticipo dei lavori relativo a indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici che il Ministero dell'Istituzione dell'Università della Ricerca il 10 dicembre 2015 ha stabilito di finanziarie ma proprio per fare in modo che questi lavori vengano celermente avviati abbiamo pensato di, proprio per l'urgenza anche di questi lavori, tutti capiscono che sia qualcosa di dovuto abbiamo pensato di prelevare questi soldi che poi ci verranno restituiti per un totale di 21.000 euro proprio per consentire queste indagini. Il secondo prelievo riguarda un valore di 30.062,68 euro sono interventi che vengono fatti nel Teatro Verdi per l'adeguamento della parte di sicurezza nell'utilizzo dei nostri foyer i soldi erano già stati stanziati l'anno scorso i lavori non sono stati ancora ultimati o avviati quindi sicuramente sono andati in avanzo quindi nel momento in cui questo avanzo verrà poi quantificato avremo la ricopertura di quanto prelevato nel fondo di riserva. Infine 10.000 euro che riguardano una norma regionale la legge regionale 20 dell'ottobre 2012 che stabilisce che i comuni devono assicurare in forma singola associata la custodia e il mantenimento nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-vetenaria dei cani vaganti presso strutture proprie o private convenzionate. Essendo il capitolo non capiente per queste prime necessità abbiamo fatto questo prelievo di 10.000 euro proprio per dare la possibilità che questa norma tassativa possa essere espletata. Questo è quanto. Grazie signor Sindaco. Bene. Prima di passare all'ordine dei lavori comunico al Consiglio che il Consigliere Giannelli era segnato le dimissioni dal Capogruppo di Forza Italia. Il Consiglio con invito il gruppo di Forza Italia a comunicare il nuovo Capogruppo per le convocazioni del Consiglio di Presidenza. No, per le convocazioni che dovremo fare in tempi brevi. Se no, dal regolamento manderemo le convocazioni a chi ha ricevuto un maggior numero di preferenze. Poi ovviamente sarete. Allora, l'ordine dei lavori deliberato alla conferenza dei Presidenti dei gruppi consigliari è il seguente. Si inizia con l'interrogazione che però l'unica interrogazione all'ordine del giorno è quella presentata dal Consiglio di Tavella che oggi non c'è, pertanto non la esamineremo. E passeremo allora subito all'esame della proposta di deliberazione numero 6 del 2016. Dopodiché, fino ad esaurimento della stessa, poi se rimarrà tempo, prima delle 10 e mezza esamineremo le mozioni iscritte all'ordine del giorno. Bene, pertanto passiamo alla proposta numero 6 del 2016, approvazione del regolamento delle consulte comunali. Do la parola all'Assessore Mazzar. Prego, Assessore. Ecco, grazie. Grazie, Presidente. Nella seduta dello scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato la delibera di soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Nella parte deliberativa di questo atto il Consiglio Comunale chiede alla Giunta di presentare, entro la fine dell'attuale mandato amministrativo, una proposta di istituzione delle consulte comunali, così come previsti dall'articolo 4 dello Statuto Comunale. Ci sono altre indicazioni in linee guida che il Consiglio dà all'esecutivo. Uno di queste è che, a rappresentare i territori dal punto di vista della loro omogeneità storica e geografica, di porre particolare attenzione ai bisogni sociali rilevati e a quelli emergenti, di essere apartitiche e di essere elettive anche se per normativa non in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e altre elezioni che si debbano tenere in questo territorio. Questa ovviamente è una procedura che altri comuni in tutta Italia hanno subito quando il legislatore nazionale ha detto guardate che dalla prossima tornata amministrativa, quindi la scadenza naturale delle vostre circoscrizioni, non c'è più la possibilità di eleggerla fino a che ci sono i comuni con, non mi ricordo più quanti abitanti, comunque un determinato numero di abitanti, sicuramente sopra i 50.000. 250.000, no? Grazie. Quindi, in tutta Italia, alla fine della tornata elettiva, del mandato elettorale, delle circoscrizioni, non si sono più rinnovate per quei comuni che erano al di sotto di 250.000 abitanti. Cosa hanno fatto generalmente questi comuni? Hanno provato ad individuare delle forme alternative di governance del territorio, ovviamente non ripetendo, diciamo, la forma delle circoscrizioni così come noi istituzionalmente le conosciamo. Per noi è stato facile, quindi, andare a valutare, eh, lo so, a valutare in tutte queste altre esperienze quali fossero quelle forme di regolamento che sono state adottate con il fine di sostituire le circoscrizioni. Abbiamo raccolto una serie di ipotesi che c'erano, ne abbiamo assemblate alcune secondo quelle che ci sembravano le indicazioni che il Consiglio ci dava e le abbiamo, e questa sera le mettiamo a disposizione del Consiglio per adempire innanzitutto all'impegno che l'inconsiglio aveva chiesto l'esecutivo, ma anche per dare una risposta a quello che è il bisogno di coinvolgimento nelle attività istituzionali dei cittadini richiedono i tempi in cui viviamo. Io brevemente proverò adesso a illustrarvi il regolamento partendo da, cercando di essere breve negli articoli che, secondo me, sono, sì, che si possono riassumere brevemente, magari soffermandomi su quelli che sono più pregnanti, più importanti. Allora, articolo 1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto e nell'emore dell'approvazione del Regolamento Generale sugli istituti di partecipazione, vengono istituite le consulte finalizzate alla partecipazione all'amministrazione locale dei residenti del Comune di Pordenone. Le consulte sono sia di natura territoriale che di natura tematica. Capo secondo, le funzioni. Sapete che arrivevamo da una serie di regolamenti che riguardavano le circoscrizioni. In questo caso, le competenze che noi attribuiamo a queste consulte sono di natura molto diversa. Le consulte sono organismi che hanno soprattutto il compito di stimolare esperienze sociali e comunitarie che contrastino con la frammentarietà e l'isolamento sociale e che valorizzino le capacità partecipative di ciascun soggetto per un nuovo sviluppo di comunità anche in attuazione del regolamento dei beni comuni. Cosa fanno le consulte? È previsto l'articolo 3 che organizzano momenti di partecipazione di incontro e riunioni con la popolazione per discutere problemi comuni promuovere iniziative per la cura e la manutenzione del territorio iniziative volte a rafforzare il tessuto sociale ed il senso di appartenenza alla comunità. Raccolgono pareri su questioni emergenti promuovono indagini e verifiche sugli interessi specifici della zona promuovono momenti di ascolto dei cittadini tramite indagini questionari incontri e su tematiche specifiche esprimono pareri non vincolanti e formulano proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale. Elaborano ogni anno una relazione sulla necessità e sulle azioni principali da intraprendere per il miglioramento della vita sociale e della comunità. Questa relazione che elaborano viene presentata al sindaco al presidente del consiglio comunale e all'assessore delegato al decentramento. Ovviamente ai dirigenti di competenza entro il 30 giugno affinché 30 giugno perché entro il 30 luglio poi si fa il documento unico di programmazione quindi c'è un'indicazione che viene data e che potrà essere tenuta in considerazione nel momento che si comincia a programmare il bilancio dell'anno successivo. Contribuiscono ad attuare il bilancio partecipativo quindi una forma di coinvolgimento sul bilancio facendolo partecipare alla comunità verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della zona promuovono e realizzano iniziative rivolte a favorire il dialogo multietnico lo sviluppo multiculturale la coesione sociale tra tutte le persone residenti sul proprio territorio di riferimento e infine promuovono la collaborazione con istituti scolastici i servizi sociosanitari i gruppi sportivi le associazioni di volontariato sia culturali sia ricreative nell'ottica prioritaria di rispondere in modo quanto più possibile integrato e flessibile ai bisogni sociali rilevati nel proprio territorio ciò per agevolare un welfare di comunità basato sulle reti di relazioni e sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e presenti nel territorio vi sono anche le consulte che hanno natura tematica che hanno lo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio e possono essere istituite quindi da parte di cittadini o stimolate anche da parte dell'amministrazione comunale qualora ci sia un interesse appunto a far partecipare alle scelte proprio le popolazioni possono essere composte da cittadini ed associazioni sono istituite con atto di giunta comunale che ne definisce assieme ai proponenti il numero dei componenti le modalità di funzionamento e ne motivano sempre la giunta ne motiva la composizione e ne stabilisce la durata questo riguarda le consulte tematiche quelle territoriali sono un po' più organiche diciamo innanzitutto abbiamo definito quali sono i territori qua noi avevamo alcune scelte per essere veloci nel portare questo documento in consiglio o mutuare quelli che erano gli spazi i territori delle ex circoscrizioni o recuperare ma ci sarebbe bisogno di un aggiornamento quelle che erano i territori che appartenevano alle circoscrizioni prima che erano sei oppure fare studi ancora più approfonditi che avrebbero richiesto del tempo quindi oggi noi portiamo la soluzione più semplice più pratica proprio per i tempi che abbiamo avuto a disposizione che è quella di proporvi quattro consulte territoriali che appartengono ai territori delle ex circoscrizioni che a sua volta appartenevano a quei collegi elettorali provinciali che quindi hanno facilitato questo tipo di suddivisione del territorio comunale perché c'era già una traccia diciamo concreta composizione e durata proponiamo una consulta le consulte composte da 11 membri e ovviamente rimangono in carica fino all'elezione della consulta successiva durano tre anni proprio per rispondere all'esigenza che viene data anche nell'indicazione della delibera consigliare che dice di non farli coincidere con le elezioni comunali e di conseguenza se noi diamo cinque anni cadono sempre quando ci sono le elezioni comunali così i tre anni diciamo diamo la possibilità di una valutazione da parte di un'amministrazione e dell'eventuale rinnovo lontano diciamo dalle elezioni comunali successive ovviamente non comportano compensi come previsto anche dalla indicazione che viene data nella delibera di consiglio comunale qual è l'elettorato attivo tutti gli iscritti nella lista elettorale delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio e tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel rispettivo territorio che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età quindi c'è una compartecipazione di residenti che non sono elettorato attivo e c'è un ampliamento degli elettori anche ai sedicenni e quindi non con il limite di 18 anni come previsto dalle elezioni comunali qual è l'elettorato passivo sono elegibili alla carica dei componenti delle consulte tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel territorio comunale e tutti gli iscritti all'anagrafe cioè tutto l'elettorato attivo può essere anche elettorato passivo con alcune ineleggibilità che sono determinate dai ruoli di sindaco di assessori di consiglieri comunali in carica e di candidati che siano presenti in altre consulte qual è il metodo dell'elezione entro sei mesi dall'inizio diciamo delle attività del nuovo esecutivo del nuovo consiglio quindi della proclamazione degli eletti a consigliere comunale vengono convocati comizi elettorati elettorali indicante giorno e orario e luogo della votazione questo avviso prego si vengono convocati i cittadini con un avviso pubblico nel quale si enuncia che in quella sede a quell'ora e quel giorno si terranno le elezioni per le consulte e ovviamente è un atto che viene poi un documento che viene pubblicato e pubblicizzato le consulte sono elette in un unico turno a suffragio diretto ogni elettore può dare una preferenza l'elezione dei componenti si effettua sulla base di una lista unica non ci saranno più liste ci sarà un'unica lista con tutti i candidati qualora il numero dei candidati compresi nella lista ed ammessi non sia pari o superiori al numero dei consiglieri da eleggere le elezioni di quella consulta non avranno luogo ovviamente se non ci sono più di 11 e ce ne sono solo 11 è inutile leggerli perché di fatto quelli lì sono automaticamente una consulta presentazione delle candidature il candidato a componente della consulta presenta la propria dichiarazione autentica con la quale dichiara di non essere candidato ad altra consulta e di non ricoprire le cariche che ho elencato prima che sono causa di inelegibilità il certificato di iscrizione dell'anagrafe comunale personale è di tutti quelli che sottoscrivono la candidatura che devono essere non meno di 10 e non più di 25 ed essere residenti nella medesima nel medesimo territorio del candidato le sottoscrizioni prevedono che si possa sottoscrivere una sola candidatura quindi non ci può essere una sottoscrizione di più candidati da parte di un unico residente la scheda contenente il proprio profilo professionale e di competenze le motivazioni che stanno alla base della candidatura e la scheda resta a disposizione dell'elettorato presso gli uffici comunali e le sedi decentrate nei territori di riferimento e nel sito web del comune perché viene pubblicata la candidatura viene depositata presso la segreteria generale o negli appositi uffici decentrati dalle 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni la segreteria generale gli uffici di cui è il coma precedente rilasciano la ricevuta ovviamente come si fa per le candidature anche al consiglio comunale seggi scrutini le votazioni si svolgono presso le sedi individuate con il provvedimento di convocazione per quanto possibile almeno un seggio per ogni consulta ovviamente il personale del seggio è costituito da tre componenti estratte e assorte dalla conferenza dei capigruppo con l'assistenza del segretario generale 15 giorni prima dell'elezione da un elenco di residenti del comune che siano in possesso dei requisiti di elegibilità e non siano candidati ad una consulta qualora non si raggiunga il numero sufficiente di nominativi la conferenza di capigruppo nomina componenti di seggio tra i consiglieri comunali in carica il personale del seggio individuerà il presidente che in caso di mancata individuazione prima dell'inizio dell'operazione sarà il più anziano di età gli uffici comunali competenti mettono a disposizione di ciascun seggio la lista degli elettori così come si è composta dalla sottoscrizione che fanno i cittadini l'elettore munito del documento di riconoscimento viene messo al voto solo se residente nel territorio di riferimento ed esprime segretamente la propria preferenza le operazioni di scrutinio vengono effettuate dal personale del seggio che trasmette apposito verbale al segretario il personale del seggio non riceve anche in questo caso alcun compenso la programmazione degli eletti ovviamente è conseguente si arriva a comporre gli 11 componenti per ogni consulta l'insegnamento è convalida entro 90 giorni dalla pubblicazione del manifesto la prima seduta è convocata dal sindaco e preseduta fino all'elezione del presidente dal componente anziano ovvero colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze salto la nomina e revoca del presidente le funzioni del presidente sono quelle di informare di convocare ovviamente la consulta di informare la consulta sull'attività svolta d'accordo sulla decisione della consulta cura secondo le modalità indicate dalla consulta i rapporti con l'amministrazione le convocazioni hanno una procedura che è molto simile alle precedenti circoscrizioni ovviamente l'incompatibilità e decadenza o surroga sono cause di compatibilità essere consigliere comunale essere assessore le relazioni con l'amministrazione i presidenti e le consulte sono invitati ad assistere alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consigliari i componenti della giunta i presidenti delle commissioni consigliari su richiesta del presidente partecipano alle sedute delle consulte ogni qual volta vi siano da riferire su questioni rilevanti per il territorio l'aggiunta comunale individua le sedi delle consulte dotate di attrezzature necessarie per rispettamento delle attività il consiglio comunale come norma finale trascorsi due anni dall'insediamento delle consulte verifica il funzionamento al fine di valutare l'eventuale mantenimento modifica o revisione dell'esperienza delle consulte sulla base anche dell'esito dei primi due anni di attività si verifica anche quali sono state i vantaggi dell'utilizzo per il territorio di queste consulte durante la commissione consigliare che si è svolta martedì non l'ultimo martedì ma il martedì ancora precedente sono state fatte alcune osservazioni alcune domande ma anche alcune proposte una delle proposte più importanti era quello di rappresentare in maniera più omogenea delle attuali circoscrizioni i territori per le consulte vi dicevo prima che è un lavoro un po' più lungo di quello che siamo riusciti a fare in così poco tempo perché bisogna separare proprio le strade le vie i numerici le famiglie quindi noi oggi veniamo con questa soluzione ancora più semplificata delle ex circoscrizioni non credo che sia facile nel tempo anche andare a una revisione di questo tipo di territorialità qualora lo si ritenesse strettamente necessario un'altra proposta che mi è stata fatta era quella di colmare questa lacuna dei sei mesi da quando si svolgono le elezioni comunali a quando iniziano le attività le proprie attività le consulte io su questo ho preparato per questa sera abbiamo preparato col segretario un emendamento che può essere distribuito l'emendamento scusate ma che intanto vedete probabilmente proiettato e che vi illustro brevemente non lo so è stato distribuito l'emendamento lo distribuiamo subito io intanto ve lo leggo il comma 1 dell'articolo 13 metodo di elezioni delle consulte del regolamento è sostituito dal seguente in sede di prima applicazione del presente regolamento delle consulte comunali la prima elezione delle consulte territoriali avviene entro sei mesi dalla proclamazione degli eletti a consigliere comunale nell'emore della prima consultazione il consiglio comunale su proposta del sindaco nomina uno o più consiglieri comunali incaricati a esercitare le funzioni previste dal regolamento delle consulte le successive consultazioni invece si svolgeranno alla scadenza triennale delle consulte elettorali quindi c'è una vacanza diciamo rispetto al quando finiranno le circosizioni e quando cominciano le consulte di sei mesi a questa vacanza proponiamo una norma transitoria che di fatto consente al consiglio comunale di esercitare le funzioni previste dal regolamento delle consulte su individuazione nel consiglio comunale di alcuni consiglieri indicati dal sindaco e poi ratificati dal consiglio stesso credo che sia comunque una modalità seppur provvisoria che consente di colmare questa prima lacuna iniziale perché ovviamente le elezioni delle consulte non si possono tenere in contemporaneità con le elezioni comunali abbiamo messo a disposizione questo strumento proprio con l'intento di discuterne in consiglio di valutarne l'efficacia di valutarne anche in maniera aperta le possibili proposte di modifica e le proposte di integrazione proprio per dare una risposta a quanto ci è stato richiesto ma soprattutto per dare una risposta anche alla necessità di governance che i tempi e la società in cui viviamo richiede da parte della comunità e da parte soprattutto di chi già nel territorio fa volontariato il fatto che siano appartitiche sapete che di solito le associazioni sono piuttosto restie a dividersi in partiti al proprio interno essere appartitiche dovrebbe essere un incentivo affinché le associazioni di volontariato possano più volentieri diciamo partecipare a questa forma di governo del proprio territorio già lo fanno col proprio volontariato lo farebbero in maniera anche un po' più istituzionale e legata all'amministrazione comunale grazie grazie assessore penso siano tutti iscritti consiglieri per i chiarimenti sì mi confermate questo va bene allora consigliere ribetti prego grazie presidente assessore ho qualche domandina da rivolgerle perché francamente alcuni passaggi mi sono oscuri cercherò di riepilogarli brevemente articolo 5 possono essere composte da cittadini e associazioni pordenonesi allora volevo capire come si raccorda la partecipazione di un'associazione cioè io ho letto sopra nel regolamento che viene deciso il numero dei consiglieri della consulta dei consulti come li chiamiamo quindi circoscrizionare consiglieri dei membri quindi mi conferma che il termine membro è il termine più appropriato un membro del membro della consulta allora quindi si decide il membro di questa consulta il numero dei membri ecco volevo capire in che modo avete pensato di far partecipare le associazioni cioè partecipa l'associazione partecipa un numero x di componenti di queste associazioni e viene deciso perché non riesco a capire quando si dice che viene deciso il numero dei componenti dei membri della consulta io stavo leggendo l'articolo 5 consulte tematiche consulte tematiche dice possono essere composte da cittadini e associazioni no no capo 3 capo 3 consulte tematiche ecco però volevo capire visto che lo trovo abbastanza generico se mi spiega proprio concretamente cioè vengono decise prima quanti sono i membri e quindi quanti l'associazione può esprimerne partecipa il legale rappresentante dell'associazione partecipa un delegato associazione non lo so me lo spiegherà dopo poi poi altra domanda articolo 9 ecco lei prima ha fatto si è dilungato un attimo sui tre anni che era una delle mie domande però francamente non capisco non capisco le motivazioni dei tre anni e soprattutto non capisco cioè se posso capire una parte della motivazione quella che mi ha dato lei prima così consente di valutare non valutare e quindi anche qua se sono a partiti che non credo ci debba essere una valutazione da parte dell'amministrazione perché quello mi sembra ci sia scritto una norma di chiusura dopo che il consiglio comunale può valutare l'esi dopo due anni quindi i tre anni l'amministrazione non credo debba fare alcuna valutazione se non prenderne atto perché se riserva no ma l'ho capito questo però proprio nell'ottica di questo quindi ci troviamo cioè la volontà di questo regolamento è prevedere che quindi un'amministrazione che subentra si deve trovare per un anno una consulta che deriva dall'amministrazione precedente questa è la volontà del regolamento o decadono in automatico con la decadenza della consigliatura no perché non è previsto sono a partiti che sono scollegate quindi lei mi dice da una parte il regolamento l'abbiamo fatto di tre anni per far sì che ci sia una valutazione però dall'altra non impegniamo la valutazione perché una nuova amministrazione si tiene un anno una consulta che quindi non può valutare mi sembra alquanto singolare però me lo dirà dopo lei sì sì no non mi sfugge quindi articolo 11 non lo so non ci arrivo a capirlo quindi se me lo rispiega perché mi dice sono elegibili la carica di componente delle consulte a tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricompresa nel territorio comunale quindi io capisco che consulta di Rorai Cappuccini io stando la lettera A dell'articolo 11 possono essere eletti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni di Rorai Cappuccini bene lettera B tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel territorio comune del comunale quindi di tutte le circoscrizioni tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente questo è il testo che ho io se è un altro testo non lo so tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età quindi a questo punto mi domando se basta essere un sedicenne che abita nel comune di Pordenone che senso ha la limitazione di cui la lettera dell'articolo 11 è evidentemente un errore bene credo almeno quindi voglio capire io leggo l'articolo 11 del testo che mi è stato mandato poi se mi è stato mandato un testo che non corrisponde a quello che oggi va in votazione io chiedo l'aggiornamento per studiarmi il testo definitivo la mia domanda è questa visto che sono due cose palesemente in contrasto allora la volontà del regolamento è circoscrivere l'elettorato passivo a coloro che risiedono all'interno della consulta oppure estendolo a qualsiasi sedicenne che risieda tutto il territorio allora c'è un evidente errore che deve essere emendato un migrante i migranti non sono aperti poi articolo 13 assessore non ho non metto in dubbio che lei mi abbia capito perché è uno dei pochi assessori svegli che abbiamo Bianchini vedo vedo che il consigliere Bianchini il senso dell'humor consigliere Ibeti vedo che il consigliere Bianchini consigliere Ibeti consigliere Ibeti si ricorda posso parlare io scusi consigliere Bianchini posso parlare io o no grazie no consigliere Ibeti deve tenere presente che sta parlando in aula in fronte al consiglio comunale scusi in secondo luogo rimane tutto registrato adesso beh ma è offensivo adesso non dica di no è offensivo se Bianchini a posto di interrompo faceva finire la frase avrebbe capito il senso no guardi che l'ho sentita io la frase che finiva con come ho sempre detto che l'assessore per l'assessore Mazzaro ha un occhio di riguardo solo per questo perché l'ho sempre detto no no io mi aggravo guarda io non ho problemi non mi cambia molto vabbè comunque cerchiamo di andare poi articolo 13 assessore metodo elezione delle consulte date tutto un elenco di indicazioni una cosa che non capisco non ritrovo ma non so se è una volontà sulle liste le elezioni componenti si effettano in base a una lista unica non vedo limitazioni come avviene per le magari per altro tipo di elezioni che riferimento alle quote rosa cioè è previsto queste consulte è previsto quello che vedo che sia previsto per tutto perché abbiamo un'amministrazione abbiamo un'amministrazione che ci fa votare i regolamenti dove nei CDA nei collegi dei revisori bisogna nominare almeno una donna di qua almeno una donna la legge va in questo senso ci sono voi qua non prevedete per le consulte una scelta voluta solo maschi cioè è possibile nominare 11 maschi bene poi articolo 15 seggi qua qua veramente assessore bellissima allora io non lo capisco non ci arrivo visto che le circoscrizioni sono state abolite non per una questione di costi perché non avete fatto altro che dire che i costi non centravano niente sulle circoscrizioni va bene avete previsto tutto gratis e posso essere d'accordo perché è una cosa volontaria chi vuole si mette a disposizione mi spiega come fa lei a costringere senza prevederlo cioè una cosa che non capisco lei qua non mi dice nell'articolo 15 cosa succede se nessun componente dei seggi neanche i consiglieri comunali ipotesi residuale decidesse di andare a fare il componente di un seggio gratuitamente lei mi indice un'elezione senza prevedere un'eventuale tra virgolette precettazione lei dice sappiate che anche le elezioni sono gratuite e i seggi lavorano gratis ma chi lo dice che lavorano gratis lei può chiedere a chi vuole potrebbe chiedere anche al consigliere comunale che potrebbe legittimamente rispondere io gratis il mio tempo non lo voglio dedicare allora lei qua mi dovrebbe prevedere o mi prevede cosa succede quindi un membro della giunta l'assessore Mazzer anche se domani non sarà in giunta si presenta a fare il seggio o altrimenti cosa che io ritengo più giusta perché un'amministrazione deve avere il coraggio quando prende delle scelte anche di affrontarne costi risibili costi risibili di prevedere dei costi perché il lavoro gratuito è un lavoro a mio modo di vedere che è un lavoro di bassa qualità perché uno che regala il proprio tempo lo fa per volontariato oppure è qualcuno che non dà valore al proprio lavoro allora lei può dirmi che chi si presenta nelle consulte scusi no ma lei deve si ma sto facendo la domanda no si non la sto facendo considerazione le faccia dopo la risposta la domanda è stata specifica e chiara è previsto qualcosa volete imporre le persone lavorare gratis chiarissimo cosa succede cosa succede se nessuno neanche i componenti del consiglio comunale gratuitamente decidono di venire a lavorare grazie poi articolo 18 elezione del presidente della consulta voi qua prevedete che viene in caso di parità di voti viene eletto il più giovane è una previsione che si richiama alla normativa nazionale benissimo quindi la spiegazione è quella perché avevo letto in altri passaggi che invece in caso adesso mi sfugge l'articolo ma se mi da un minuto ecco allora volevo capire come mai da una parte viene il più vecchio dall'altro più giovane mi sembra poi contraddizione anche perché se da una parte prevedete che l'esperienza debba aiutare e se e se chiedo scusa che mi sono spiato e se invece lo scopo di queste consulte appunto deve essere quella di far partecipare tutti non capisco e soprattutto non essere partiti che in un certo quel modo scollegate in un certo quel modo scollegate da quelle che sono le norme nazionali di riferimento ho fatto riferimento adesso le quote rosa allora voglio capire la motivazione perché non potevate essere coerenti e prevedere o tutto il più anziano o tutto il più giovane credo che ci sia una differenza una mancata un mancato allineamento in questo ecco ultima domanda perché non l'ho capito da questo regolamento a parte a parte il capo 3 che riguarda consulte tematiche alle quali voi stesse dedicate due articoli 3 voglio capire mi spiega la differenza tra circoscrizioni e consulte che non l'ho capito a parte il gettone di presenza risibile grazie va bene bene consigliere Pedicini prego alcuni refusi e cose che anch'io non ho capito allora intanto per quanto riguarda integro un po' perché alcune cose le ha già detto il consigliere che mi ha preceduto e quindi non vado a ripeterle e anch'io avevo delle perplessità come le associazioni potevano partecipare e quindi forse bisogna chiarirlo meglio poi per quanto riguarda l'obbligo di avere il 30% di genere all'interno delle liste questo a mio avviso vale anche per le consulte nel momento che si istituisce delle elezioni bisogna che almeno il 30% dei candidati sia di genere femminile oppure maschile se l'altro il 70% il 73% è femminile ci vuole una rappresentanza di genere anche all'interno di queste elezioni e quindi in senso generale per quanto riguarda lo stesso discorso vale sulle preferenze perché voi parlate di preferenza preferenza unica voi sapete che si può dare la doppia preferenza nel momento che viene abbinato alla preferenza di genere unica per un genere unica per un altro e quindi andrebbe inserito anche in questo la possibilità di dare la doppia preferenza di genere poi all'articolo 18 sto solo integrando perché alcune cose le ripeto le ha già dette ah sì all'articolo 14 prima avere una sottoscrizione per la propria candidatura di non meno di 10 non più di 25 elettori mi sembra un numero talmente risibile che veramente avremo io mi auguro che ci sia tanta partecipazione anche se ho qualche dubbio ma mi sembra un numero molto basso troppo basso perché per dare un minimo di qualità anche perché immagina di poter avere una lista con ammettica la prima volta con l'entusiasmo siano in tanti che si vogliono candidare all'interno di questa lista unica non è che possiamo fare tipo i paesi dell'est dove andavano con l'enzuolo aperto con tutti i nomi da andare a scegliere insomma cerchiamo di dare rappresentanza a chi vuole partecipare alla consulta per avere maggiore rappresentanza maggiore deve essere il numero di voti che lo sottoscrivono prego tu dici che sono già tanti 10 ma allora cosa rappresenta la sua famiglia cioè vuol dire che rappresenta sì sì vabbè ve lo auguro ogni bene bene poi è un'altra cosa che qui non è prevista che ho trovato il numero dei votanti minimi quando si apre la consultazione all'interno di un territorio fai conto alla sud allora tenete presente che così come le avete divise voi che rispecchiano gli seggi delle provinciali sono circa 7500 elettori in ogni collegio a Borgomeduna sia la sud al centro sì perché sono 35.000 iscritti nelle liste elettorali più o meno divideteli per 4 e vedete quanti vanno fuori allora è un numero elevato vale un numero minimo o se vanno a votare 200 persone va bene lo stesso è una consulta cioè ne parliamo dopo nell'intervento ma per essere una consulta che abbia un minimo di senso deve avere un quorum anche l'elezione perché se no si sono trovati 10 persone si sono date le cose hanno fatto una consulta ma quella non è dovrà avere una votazione minima se vuole essere rappresentativa del proprio territorio se no non rappresenta niente dipende anche dal numero dei votanti stabilite un minimo dei votanti ma a mio avviso va fatto altra questione nomine revoca del presidente ma se sono in 11 perché 5 possono mandare a casa il presidente almeno 6 scusate perché 5 non l'ho capito la minoranza manda a casa la maggioranza prego si ho capito ma anche per presentarle per non creare meglio che ci sia un numero minimo che sia almeno di 6 perché non ho detto che sarebbe poi se volete anche un numero qualificato ma 5 mi sembra che sia troppo poco queste erano alcune integrazioni poi i commenti li facciamo dopo basta mi fermo qui grazie consigliere consigliere Freschi prego sì grazie presidente allora nell'intento di cercare di fare un lavoro ben fatto quale ho qualche dubbio si sente cerco di fare qualche domanda chiarimento allora vabbè quello che riguarda l'emendamento era una cosa che avevamo proposto vedo che viene recepita per quanto riguarda la cosiddetta vacanza chiamiamolo contrattuale no dalla elezione dal momento dell'insediamento alla elezione delle consulte però stavo un po' scorrendo alcuni punti li hanno già toccati i consiglieri che mi hanno preceduti ed essere d'accordo su alcuni passaggi con ribetti per me è abbastanza una cosa inusuale però devo allora piccoli non capisco all'articolo 3 al punto di quando si parla di elaborare ogni anno una relazione che viene presentata eccetera siccome questa relazione parla di miglioramento della vita sociale della comunità non capisco perché non si sia inserito oltre che l'assessore delegato anche l'assessore alle politiche sociali mi parebbe una cosa talmente ovvia e scontata visto che le consulte dovrebbero imperniare la loro attività soprattutto nel campo dell'intercettazione dei problemi sociali per cui vedrei un rafforzativo è l'articolo 3 al comma di dove si dice sindaco presidente del consiglio comunale assessore delegato dirigente mentre lei io volevo capire l'assessore delegato qual era ma siccome in un altro articolato lei cita l'assessore delegato come colui che è delegato al decentramento allora ho capito che non è l'assessore che l'assessore delle politiche sociali sarebbe escluso invece mi parebbe una cosa abbastanza abbastanza pregnante poi sulle consulte tematiche io sull'articolo 5 ho parecchie prepressità perché perché avrebbe una logica se noi avessimo se voi aveste adottato in questo articolato quando parlate delle associazioni l'articolo 8 che riporta la città di Cologno Monzese dove c'è una specifica articolazione che riguarda che riguarda la nomina delle associazioni perché secondo me è un articolo è un passaggio molto delicato e ve lo metto così non sto qua a sviluppare il ragionamento non mi sento neanche di fare i emendamenti perché diventa difficile farli cioè nel momento in cui parlo di associazioni non posso pretendere queste sono delle consulte tematiche per cui vengono fatte devo articolarle in qualche modo non posso lasciarle così general generiche rischiano di creare qualche incongruenza se voi andate a vedere l'articolo 8 del regolamento di Cologno monzese sul discorso delle associazioni è molto preciso e molto attento perché rischiamo rischiamo di mettere rischiamo di mettere in contrapposizione le associazioni è un pericolo che io avverto e ve lo metto lì non propongo emendamenti perché non saprei come articolarlo se non prende per mano tutto e rifare insomma però ve lo metto lì come passaggio sull'articolo 8 dove lei parla della geografia diciamo della città dal punto di vista territoriale avrei messo perlomeno un momentaneamente lasciamole così per ora lasciamole così perché questi sono i confini geografici dei collegi dei collegi provinciali sono i cosiddetti confini degli stati del Sahara tirati con righello che non hanno nessuna a che vedere con quelle che sono le consulte e con la loro diciamo così originalità dal punto di vista della delimitazione dei confini per cui aggiungerei un momentaneamente un qualcosa che ne manifesti la precarietà e farei un passaggio perché non mi è chiaro all'articolo 23 dove i confini sono regolati dal dove dice le planimetrie allegate eccetera perché l'articolo 23 io lo suddividerei in comma A e in comma B perché a un certo momento parla di trascorsi due anni dall'insediamento e poi dice sotto i confini territoriali o il numero delle consulte allora o è chiaro che le consulte potrebbero essere dal punto di vista della loro perimetrazione cambiate anche in qualsiasi momento oppure sono condizionate dai due anni allora io direi di mettere comma A il consiglio trascorsi due anni dall'insediamento delle consulte verifica il funzionamento una cosa comma B i confini territoriali o il numero delle consulte possono essere eccetera in modo tale che le due cose sono sdoppiate perché se no una condizione all'altra è chiaro assessore no non sono articolati però cioè se lei mi dice che sono separati però nel momento in cui vado a modificare le perimetrazioni non ci deve essere qualcuno che mi dice no ma guardi che regolamento ha detto che trascorsi due anni dall'insediamento delle consulte posso fare questo cioè se voi mi rispondete con un chiarimento allora sì basta che basta che sì basta che questo sia chiaro perché se no all'articolo 8 bisogna fare un rimando all'articolo 23 l'altra cosa elettorato attivo e elettorato passivo allora questo è un punto estremamente delicato messo giù così i due punti il coma A e il coma B sia nell'elettorato passivo che nell'elettorato attivo sono in contraddizione tra loro perché se io prendo il punto B significa che tutti gli iscritti all'anagrafe sono cancellati e sono tutti residenti all'anagrafe iscritti all'anagrafe non iscritti alle liste elettorali allora o questo viene modificato e rimane l'A tutti gli iscritti alle liste elettorali e il B tutti i giovani dai 16 ai 18 anni che potranno essere iscritti alle liste elettorali allora la cosa mi è chiara ma messo in questa maniera il coma B annulla il coma A perché prevede che tutti gli iscritti all'anagrafe di questo comune residenti possano votare per le consulte se mi pare di capire che l'intento era quello di far votare i giovani dai 16 ai 18 anni io devo mettere punto A gli iscritti alle liste elettorali punto B i giovani dai 16 ai 18 anni che hanno i requisiti per poter essere iscritti alle liste elettorali altrimenti il punto B prende tutti ed annulla il punto A no ma la fa diventare secondaria la fa diventare secondaria io non sono qua ho degli amici che sono esperti del principi del foro che sanno esplicitare meglio di me questo passaggio io ho cercato di semplificarlo per farvi capire com'è com'è questo allora il punto sia nell'elettorato attivo che nell'elettorato passivo il comma A dice tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle istituzioni ricomprese nel rispettivo territorio il punto B dice tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel rispettivo territorio che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età significa che io prendo i cittadini dal sedicesimo anno di età a prescindere che siano iscritti alle liste elettorali o no e fanno parte delle elezioni allora lo spirito con cui io mi accingo a questo articolo ve lo dico da subito che è questo mi va bene che si porti l'età a 16 anni ma per tutti coloro i quali hanno i requisiti per poter essere iscritti alle liste elettorali cioè io allargo la platea dei votanti prendendo tutti gli iscritti dai 16 ai 18 anni che non sarebbero contemplati nelle liste elettorali faccio un'aggiunta in modo tale che ci sia questa possibilità ma che abbiano i requisiti per poter essere iscritti alle liste elettorali se no devo aggiungere altri declinandole da altri regolamenti ok poi ecco l'altro aspetto che l'ha toccato il consigliere Ribetti per cui su questo dicevo che mi trovavo stranamente a essere d'accordo dico è l'articolo 15 l'articolo 15 dove dice il personale del seggio non riceve alcun compenso allora io posso capire che in questo caso tutto è gratuito tutto allora a me va bene che non riceva alcun compenso uno che al limite è consigliere comunale però io non posso estrarre da una lista di cittadini dei nomi e gli chiedo di fare lo scrutatore di seggio gratuitamente per una giornata io avrei preferito che fosse declinato in maniera completamente opposta che fosse al limite declinato nella maniera che chiedo addirittura limito gli scrutatori a giovani e disoccupati ai quali do anche qualcosa allora quella maniera è una maniera per far partecipare non è una maniera per escludere se no lo faccio fare i consiglieri comunali ok siccome sono 4 le consulte 3 sono gli scrutatori 12 consiglieri comunali ma non pretendo dei cittadini che mi stiano lì una giornata per giunta gratuitamente anzi rovescerei il discorso utilizzerei questa cosa per dire bene i giovani approcciatevi a questo e vi diamo anche qualcosa mi parebbe un po' più partecipativo poi articolo 17 la consulta entro 90 giorni abbiamo 6 mesi di tempo per leggere la consulta 90 giorni perché si insedi diventano 9 mesi mi pare mi pare un periodo poi anche io solo concordo con il consigliere Pedicini sul discorso dell'articolo 18 nomine revoca per lo meno siano 6 visto che sono stati portati a 11 forse l'aggiornamento vigeva sui 10 di prima probabilmente non si è visto poi e basta mi fermerei qua ho delle considerazioni da fare ma le farò in seconda battuta grazie grazie consigliere Freschi consigliere Daniello prego mi siedo perché se l'assessore che deve ascoltarmi parla tra di lui si siamo in tanti posso vado si siamo in tanti stasera d'accordo con il consigliere Ribetti anch'io anch'io e anche eh io si io si allora questa questa proposta che è una toppa è stata vagliata dalla commissione pari eh sì se io parlo con lei assessore e lei non mi ascolta come fa a rispondermi per opera dello spirito santo tutti eh bravissimo allora eh chiedo se questo questa toppa di regolamento è stata eh proposta alla commissione pari opportunità e quale è stato il suo parere in quanto in base alla legge del duemila e dodici ventitré undici manca la presenza per dell'altro di due componenti per garantire la presenza di entrambi i sessi cosa che è stata approvata anche eh in consiglio regionale quindi norma ok è una legge nazionale per cui dovremmo rispettarla ventitré dodici allora io ho fatto una domanda allora se non sono che allora parlo con Perosa non so parlo con lei assessora allora se non sono elezioni riconducibili alle elezioni del consiglio regionale comunale eccetera che tipo di elezioni sono se sono arrivate le osservazioni e i pareri delle circoscrizioni e credo proprio di sì perché erano presenti in consiglio comunale ancora la scorsa volta mentre qualche consigliere ha detto che non stavamo andando a presentare la scorsa volta anche questo regolamento perché mancavano quelle delle circoscrizioni se ci sono per piacere se ce le fate avere grazie se avete valutato qual è il costo di questo tipo di elezione e all'articolo 20 aspetta perché mi ero segnata sì convocazione svolgimento delle sedute l'ultimo capoverso dice nel rispetto dell'autonomia no ciascuna consulta dovrà fissare le modalità di convocazione chi le fa le convocazioni lo stesso funzionario che fa che fa oggi la convocazione delle circoscrizioni chi le fa ho fatto le domande perché mi rispondiate mica perché vogliamo fare prego scusi consigliere scusi siccome ci sono stati quattro interventi quattro richieste andiamo per blocchi se no si si se no ma per precisare soprattutto una cosa se la giunta se il consiglio chiede alla giunta portatemi qualcosa noi lo mettiamo a disposizione l'abbiamo fatto in tempi molto brevi qua non c'è un vincolo per dire va bene così vogliamo che lo votiate no noi l'abbiamo portato il consiglio perché il consiglio ce la chiede e non sarà certo la giunta a ritirarlo ovviamente perché è un adempimento che noi facciamo lo facciamo e lo portiamo qua proprio perché venga discusso ci sono stati nelle more della decisione del consiglio alcuni vincoli che fosse tutto gratuito era una cosa che mi sembrava fosse emersa dal consiglio per tutti non doveva essere non doveva essere oneroso da quello che mi si diceva cioè non deve essere oneroso e quindi noi proponiamo qualcosa che non sia no 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 mi lasci finire se non è oneroso noi portiamo qualcosa di oneroso di non oneroso ovviamente perché è un'indicazione che viene data dal consiglio cerchiamo di rispondere e in maniera solerte anche perché l'abbiamo fatto nel giro di una settimana sì alcune cose perché tre anni no l'abbiamo previsto di tre anni per non farlo coincidere con le elezioni amministrative punto non va bene mettiamo cinque mettiamo quattro mettiamo siamo qua no perché due anni la verifica perché presumiamo che in sede della prima applicazione dopo due anni un'amministrazione debba verificare se le cose funzionano o non funzionano credo che sia un dovere quello di andare a verificarle le consulte tematiche è chiaro che dipenderà dal tema se si parla di università e non è inutile far partecipare chi non ha niente a che vedere con l'università è meglio far partecipare coloro che all'università ci vanno gli insegnanti che insegnano e persone che siano stakeholders veri quindi è difficile normare le consulte tematiche perché il tema determina come si compongono vincolo di territorialità previsto nell'articolo 11 per coloro che possono essere eletti si parte dal presupposto a le elezioni che andranno svolgersi il 5 di giugno forse può partecipare uno anche che abita a fiume veneto giusto abbiamo previsto che circoscriverlo all'interno del comune perlomeno fosse una scelta più ampia perché ci può essere il rappresentante di un'associazione che opera a Borgomeduna e magari abita a Valenoncello ma se è un rappresentante dell'associazione che opera a Borgomeduna è giusto che diamo a quell'associazione la possibilità di rappresentarlo nel territorio in cui opera e questa è la razza di questa scelta cioè ampliare gli elegibili limitare gli elettori d'accordo ha un senso per questo motivo non previste le quote rosa vi ripeto abbiamo copiato da altri regolamenti non è che non ci siamo inventati tutto non siamo così bravi abbiamo anche cercato di copiare chi ha già fatto e aveva fatto in questi termini però nulla vieta che un emendamento possa prevedere che ci siano le quote rosa 30% deve essere quello che si vuole insomma si può quindi emendare ma scusate sulla terminologia posso essere magari poco corretto ma spero di essere stato perlomeno efficace nel contenuto l'articolo 15 i 16 lavoro gratuito dicevo prima se devono essere non onerose noi non abbiamo potuto prevedere compensi per chi lavora i seggi si può sempre istituire per carità perché il più giovane è il più vecchio si è fatto prevalere l'esperienza per chi fa il presidente di seggio e si è fatto prevalere invece il ricambio generazionale per quelli che vengono eletti la razza è solo quello ma ripeto non l'abbiamo inventato qua ci ha pensato qualcuno prima di me ovviamente le schede non saranno una lista elettorale su cui si mette una crocetta per la preferenza ci sarà la lista di coloro che si candidano e uno arriva con un fogliettino e scriverà il nome così si faranno le elezioni non c'è la formalità la burocrazia che si deve adottare quando c'è il controllo della prefettura del tribunale è solo un regolamento del comune questo qua un regolamento del consiglio comunale quorum di votanti l'esperienza ci dice l'esperienza di altri ci dice guardate che la partecipazione va dal 7 al 15% questi saranno i votanti che voi troverete la prima volta che cercherete di istituire queste consulte sulla base di questo abbiamo pensato che il seggio sia sufficiente e che il quorum di votanti non sia significativo insomma sul numero minimo per chiedere una votazione sul presidente è come quando un quinto dei consiglieri chiede di discutere una delibera abbiamo messo 5 che possono chiedere al consiglio della consulta diciamo di dare di togliere la fiducia al presidente quindi 5 possono chiedere ma è chiaro che deve essere la maggioranza però che decide in questo senso va inteso i 5 che chiedono sì ma se lo chiedono in 5 magari gli altri 6 sono d'accordo di tenerlo quindi dovevamo mettere un numero diverso che lo chiedono in 4 lo chiedono in 3 si può emendare lo chiedono anche in 3 a me sembrava un numero congruo quello di 5 su 11 sulla territorialità rispondo al consigliere freschi oggi è più facile farlo in 4 perché abbiamo già le liste di coloro che sono elettori se dovessimo frazionare il territorio diversamente serve un'elaborazione che non è stato possibile portare in tempi così brevi perché è un'elaborazione complessa che deve fare l'ufficio elettorale insieme col SIT l'ultima cosa che vi dico noi l'abbiamo portato senza cioè non è che la giunta chiede la fiducia sul testo che vi propone la giunta propone il testo che gli è stato richiesto del consiglio dentro i crismi della legittimità che deve dare il segretario il testo è emendabile quindi qualsiasi proposta verrà tenuta in considerazione purché la proposta stia dentro i criteri di correttezza del provvedimento finale perché tutti i provvedimenti che noi adottiamo qua hanno bisogno di un visto di legittimità contabile tecnico giuridico cinque cosa ah sulle associazioni la sua gliela ripeto se io parlassi di università quanti sarebbero gli stakeholders per parlare come fa Chiara Mio probabilmente gli studenti gli insegnanti il consorzio universitario che compone che finanzia è inutile che allarghiamo a 50 persone magari lì servono meno se parlassimo del problema del campo di rugby che deve trasferirsi da lì in un'altra parte gli stakeholders sarebbero diversi è chiaro che è in funzione del tipo di argomento di cui si tratta che si può determinare quali sono i portatori di interesse che hanno necessità a partecipare a una consulta per questo non l'abbiamo lasciato indeterminato perché altrimenti sarebbe comunque difficile porre dei vincoli su una cosa che può avere delle implicazioni molto diverse ci sono argomenti in cui probabilmente bisogna convocare tutte le associazioni di quel territorio e magari quella consulta lì tematica sportiva avrà 15 componenti compresi i genitori di chi porta i bambini ad allenarsi magari altri temi richiedono meno componenti è difficile richiuderli delle regole ben precise per questo l'abbiamo lasciate libere come opportunità non l'ha capito sì 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 le tematiche non si votano mentre le consulte permanenti del territorio si votano le tematiche si nominano rispetto ad un argomento preciso e specifico l'esecutivo c'è scritto è uno strumento di cui l'esecutivo si può avvalere invece che decidere da solo si avvale di queste consulte tematiche lo si può togliere però mi pareva che fosse un'opportunità interessante è intelligente di partecipazione e che condivide le responsabilità delle scelte tante volte che è la cosa più determinante per far sì che una scelta poi non venga calata dall'alto ma venga condivisa dal territorio o venga condivisa da chi poi ne paga le conseguenze se viene calata dall'alto bene consigliere Palmisano non ha risposto la consigliere Daniello cos'è che mancava con i consigliere dicevo che sul genere avevo risposto ho detto quota e rosa non c'è un vincolo legislativo come c'è per le elezioni normali quindi noi possiamo mettere niente tutto quello che vogliamo perché siamo qua con un regolamento che ci diamo noi di cui non ci sono vincoli giuridici come per le elezioni non siamo sotto controllo rispetto a quello che stiamo facendo se lei ritiene che come nelle associazioni per esempio quando nominano il consiglio delle associazioni non è che vanno a vedere di che genere sono lo nominano in base a quello che è la loro esigenza noi possiamo introdurlo e emendarla questa cosa qua noi l'abbiamo copiata da altri che non l'avevano inserita la questione di genere non è detto che il consiglio comunale di Pordenone non intende inserirla con un emendamento e farla propria non è un'elezione che ci controlla il prefetto e il tribunale di Pordenone è una roba che ci diamo noi delle regole che ci diamo noi e che se non ci vanno bene ne possiamo modificarle a seconda della nostra esigenza quindi il consiglio su questo è sovrano d'accordo? il costo il costo di questa operazione allora il costo è esclusivamente il costo dei dipendenti eventualmente che in quel periodo lì faranno un po' di straordinario probabilmente per dare un po' di assistenza oppure della pubblicazione della stampa delle schede e della pubblicazione del manifesto elettorale è un costo che è difficile il segretario il segretario voleva quantificarlo anche non so se l'ha fatto e eventualmente glielo dice ma guarda che io non è che sono qua per darle le risposte cioè se non le so le dico che non lo so non invento niente no non lo so quanto può costare le ho dato le ho dato un'indicazione su quanto cosa può coinvolgere in termini economici veda lei no abbiamo ritenuto che non avremo più un ufficio decentramento che fa le convocazioni è un lavoro autonomo che si faranno i componenti delle consulte ovviamente ci sarà meno formalità perché rispetto alle circoscrizioni c'è meno formalità secondo me ci si può convocare anche con un semplice gruppo di whatsapp funziona funziona se guardiamo la sostanza funziona meglio bene posso dare la parola al consigliere Palmisano prego consigliere grazie grazie presidente grazie signor sindaco e assessore allora provo anch'io ad elencare alcune osservazioni sulla su questa delibera allora la prima è sulla delibera alla prima pagina dove vedo l'uno bis prima dell'uno non mi sembra che sia una cosa diciamo regolare perché normalmente l'uno bis viene dopo l'uno prima pagina prima pagina della delibera allora questa è stata votata però posso far notare c'è l'uno bis che viene prima dell'uno poi passiamo alle osservazioni allora la delibera dice al punto uno sopprimere le circoscrizioni d'accordo l'avete votato lunedì al punto uno bis dice la giunta comunale si impegna a presentare entro la fine dell'attuale mandato amministrativo una proposta va bene e il punto uno bis che si divide in punti uno due tre e quattro l'uno bis si divide in uno due tre e quattro poi c'è il punto due che dice di precisare che la soppressione delle circoscrizioni di decentramento avrà effetto a decorrere dalla data di cessazione cioè al fine di questo mandato chiaro questo dice la delibera ma non è oggetto di o cioè la delibera votata scolto eh manca la voce ah ecco allora riprendo con alcune mie osservazioni sul regolamento allora per quanto riguarda alcuni alcuni punti dunque vediamo articolo 6 l'aggiunta eccetera eccetera allora si può ipotizzare una consulta solamente una consulta tematica solamente composta da extracomunitari per problematiche inerenti al loro status è l'aggiunta che decide assieme ai proponenti questa è una domanda all'articolo 6 articolo 9 la consulta è composta da 11 membri che rappresentatività deve essere garantita tra italiani comunitari extracomunitari questa è un'altra domanda poi le consulta durano tre anni va bene questo l'abbiamo già detto e non mi dilungo tanto articolo articolo 10 ecco questo è importante perché parla dell'elettorato attivo e poi quello successivo elettorato passivo allora io faccio questo riferimento dunque per le amministrative votano gli italiani iscritti alle liste elettorali e i cittadini comunitari inseriti nelle liste aggiunte per le comunali invece per le consulte vorrebbero tutti gli stranieri iscritti all'anagrafe che abbiano compiuto il sedesimo anno di età allora mi spiego meglio quando si parla di elettori noi abbiamo iscritti diciamo alle liste elettorali queste persone questi cittadini invece per quanto riguarda il punto B abbiamo gli italiani gli stranieri e anche un'altra cosa importante se queste nomine il presidente oppure i componenti di queste consulte sono organi istituzionali mi chiedo se possono votare o essere anche eletti coloro i quali sono interdetti dai pubblici uffici perché nel momento in cui mettiamo consentiamo tutti gli iscritti all'anagrafe è chiaro che ci vanno italiani stranieri e anche gli internet e i pubblici uffici quindi questa è un'altra domanda che volevo fare poi articolo 11 ecco tutto il territorio comunale cosa vuol dire che uno di Torre può candidarsi a Borgomeduna o viceversa ecco questo sarebbe da chiarire questo è un altro da parire articolo 23 dopo i due anni di insediamento delle consulte ci sarà una verifica del loro funzionamento al fine di mantenerle a mio avviso è una cosa una cosa certa appunto cioè stiamo per approvare un regolamento che potrà essere anche cancellato se verrà valutata la poca efficacia oppure non efficacia ecco allora come domande adesso mi fermo qui poi diciamo per quanto riguarda gli interventi avrò altre cose da chiedere grazie grazie consigliere Pammisano consigliere Sperotto prego sì grazie presidente inizio un po' dalle pochissime cose che avevo detto nel consiglio comunale scorso capisco che sono sempre non più l'ultimo arrivato ma il penultimo arrivato dopo l'arrivo della consigliera Sofia Solarino e quando si mette mano a uno statuto bisognerebbe lo ribadisco fare le cose nello stesso contesto e con un po' di armonia oggi che ci sia tutta questa fibrillazione in consiglio comunale per approvare un regolamento sulle consulte che dovrebbe essere un momento secondo me di condivisione di uno strumento di questo tipo è un po' miratrista un poco e appunto perché se tutto fosse stato fatto in un unico momento in un unico contesto probabilmente non saremmo arrivati qua ad ogni modo bisogna affrontare il documento e lo affrontiamo e quindi vi chiedo queste cose verifico che appunto per presentare la candidatura diversamente da qualsiasi altra candidatura è necessario esibire una sorta di curriculum tra gli elementi appunto indicati nel curriculum vengono indicati i valori punto semplicemente i valori senza dare nessun'altra spiegazione io credo che quantomeno sia necessario indicare i valori costituzionali almeno indicare almeno declinarli in valori costituzionali che valori mettiamo cosa significa una parola come valori buttata lì potrebbe essere che un curriculum viene anche scartato perché un valore che viene considerato una persona rispetto ad un'altra in realtà valore per il nostro ordinamento per una comunità o per altre persone non è quindi prendiamo quantomeno come base la carta costituzionale e indichiamo almeno i valori costituzionali poi tante altre cose sono già state dette allora mi pare un po' eccessivo che si mettano in piedi le consulte che si mettano delle persone a lavorare che la durata sia prevista per tre anni dopo però dopo due anni se vogliamo gli chiudiamo diciamo il luogo dove queste persone lavorano allora equipariamo mettiamo almeno trascorsi dopo i due anni e mezzo i tre anni cioè diamo un valore trascorsi tre anni direi cioè visto lasciatele lavorare queste persone per tre anni come prevista la durata della consulta dopo ci sia una verifica altrimenti credo che non ci sia veramente una cosa organica grazie 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 consigliere Sperato consigliere Solarino prego grazie presidente allora molte delle questioni sono già state sollevate e in particolar modo mi premeva chiaramente quella relativa all'equilibrio di genere nel caso può essere utile un regolamento adottato in un altro comune italiano in cui hanno previsto per esempio la possibilità di di una percentuale diciamo di autocandidati una percentuale di cittadini sorteggiati dalla banca dati anagrafica comunale questo appunto affinché ogni lista riesca a garantire l'equilibrio di genere e almeno un terzo di presenza del genere meno rappresentato quindi eventualmente abbiamo già una soluzione al problema sollevato un altro dubbio è relativo all'articolo 3 punto e contribuire ad attuare il bilancio partecipativo io dalle ricerche effettuate mi risulta che il bilancio partecipativo in questo comune non sia ancora stato adottato e non è fatto marginale nel senso che esso rappresenta una delle ulteriori modalità e formule di partecipazione di cittadinanza attive che potremmo garantire in questo comune come già stanno facendo altrove il comune più vicino che mi viene in mente adesso a Zoppola lo stanno hanno appena cominciato è in via di sperimentazione poiché appunto ripeto è una formula di partecipazione a sé che richiede anche un intervento importante da parte del comune credo che sia necessario prevedere prima il bilancio partecipativo e poi parlare di eventuale collaborazione o contributo da parte delle consulte nell'attuarlo all'interno della città questi sono i due punti più importanti grazie grazie consigliere consigliere Loperfido prego grazie presidente essendo brevissimo per quanto riguarda la domanda di chiarimenti articolo 11 sull'elettorato passivo non è comprensibile il motivo per cui delimitiamo l'elettorato passivo a coloro i quali risiedono unicamente nel territorio comunale perché ripeto ci sono diversi presenti in consiglio comunale che risiedono fuori dal territorio comune di Pordenone se vogliamo possiamo aprire anche una parentesi sulle motivazioni che portano ad abitare fuori Pordenone e non a rimanere a Pordenone però siamo ai chiarimenti ma quando anche dovessimo accettare questa cosa ovvero che tutti gli iscritti nelle liste elettorali le sezioni ricomprese nel territorio comunale di Pordenone possono essere eletti e non quelli che abitano fuori se per caso uno nel corso del mandato va ad abitare fuori decade grazie grazie consigliere consigliere martino prego sì grazie presidente una domanda di chiarimento all'articolo 8 che riguarda il numero di consulte distribuite in quattro territori in quattro territori nel territorio comunale lei ha detto che è stato scelto il numero di quattro perché sono già definiti i confini le vie eccetera quindi capisco che in effetti è più semplice piuttosto che fare il lavoro che diceva prima lei io penso che il numero di sei sia un numero equilibrato e che corrisponda esattamente alle alle sei circoscrizioni che c'erano prima della modifica quindi credo che gli uffici abbiano già questo lavoro fatto in quanto esisteva prima quando avevamo oltre alle quattro attuali ex circoscrizioni avevamo Borgomeduna e poi Rorai Cappuccini che era la nord e Cappuccini quindi penso che il numero di sei possa essere un numero più equilibrato che corrisponde a una omogeneità dei territori così come era in precedenza e che mi pare funzionasse anche abbastanza bene quindi credo non ci sarebbe un aggravio di lavoro per gli uffici in quanto potremmo andare a rispolverare appunto quei confini quelle vie che già il comune aveva a disposizione grazie però vabbè penso che il lavoro sia assolutamente minimale insomma e quindi con sei penso si potrebbe arrivare a un numero equilibrato ecco grazie grazie consigliere prego assessore prego per le risposte sì io per esempio consigliere Martino mi trovo d'accordo con lei anzi secondo me dovrebbero essere ancora di più però capisce che io non posso accettare una proposta di un consigliere io posso semplicemente accettare un emendamento e farlo votare al consiglio così si può quindi per quel che riguarda i chiarimenti su quello che c'è scritto io ve li do volentieri io ho sentito delle proposte anche intelligenti che però non sono scritte e quindi per essere accettate non c'è bisogno del mio consenso c'è bisogno del consenso del consiglio comunale quindi io direi che chi vuole fare delle modifiche le può fare tranquillamente proponendo un emendamento poi il segretario dovrà avere il tempo soltanto per valutarli un attimino nel merito e poi si possono votare in Parlamento si votano 500 emendamenti qua ne voteremo un po' che insomma eventualmente e possono andare tranquillamente a modificare il regolamento sull'articolo 11 consigliere Palmisano io credo che ho visto che stanno proponendo un emendamento magari lo verifichi se è quello che intende lei perché anche lei fa una proposta io preferirei che gli extracomunitari non votassero io ho capito questo no? da come da come no? no no ho capito male io allora scusi ho capito male io perché perché mi sembrava questo che intendesse no? no ma cioè boh vabbè per carità ho capito male io ho capito male io eh certo esatto no scusa sì sì per quel che riguarda le consulte tematiche vi ripeto le consulte tematiche non sono assolutamente regolabili a priori proprio perché il tema di cui si occuperanno non lo conosciamo a priori e di conseguenza è semplicemente un elemento di uno strumento in più a disposizione dell'esecutivo se vogliamo e se vogliamo toglierlo ovviamente bisogna ammendare il testo che è stato proposto la valutazione dei due anni l'abbiamo ragionalmente prevista per non fare in maniera che la valutazione avvenga alla fine del mandato perché sarebbe un po' inutile però anche lì mi trovo d'accordo a parte che io trovo che una consulta che lavora per il proprio territorio che lo fa gratuitamente e che lo fa per dare un contributo alla propria comunità difficilmente può essere valutata male da un esecutivo quindi credo che sia difficile più che altro un esecutivo può prendere atto delle cose che potrebbero andare meglio e dare dei suggerimenti io la pensavo in termini positivi la valutazione dopo due anni non una pagella data dei volontari ma una specie di contributo che anche l'esecutivo dà ai volontari per migliorare la loro attività però le ripeto si può anche emendare portare a tre tranquillamente non c'è problema sulla questione invece della consigliere solarino credo che non si possa fare con i sorteggiati perché una delle volontà del consiglio è devono essere eletti non possono essere sorteggiati si può intervenire sulla quota degli eletti che siano di genere diverso quindi magari se uno ha ricevuto tante preferenze però è fuori dal quorum diciamo di un genere è chiaro che si salta quello si va a pescare chi ha avuto meno preferenze perché appartiene al genere diverso questo si può fare eventualmente anche qua con un emendamento cioè io ho dieci eletti ho undici eletti sono tutti uomini no? devo rappresentare almeno tre donne non elego i primi undici scarto il nono il decimo l'undicesimo vado al dodicesimo per vedere se una donna se no vado al tredice finché vengono elette tre donne questo è un meccanismo che si può attuare con un emendamento che possiamo tranquillamente accogliere portare alla votazione dei no poi vediamo se cosa mi pare di aver dato risposte a tutti io ripeto do risposte su quello che abbiamo portato come ipotesi di lavoro è difficile che dia scusi ah sì io sono anche d'accordo ci può essere anche uno che arriva da fiume da Cordenons appartiene a Rugby Pordenone no? ci lavora lì lavora con tutti i ragazzini vuole per parte della consulta perché non metterlo dentro anche in questo caso è una proposta io fondamentalmente la condivido quindi basterebbe che lei facesse un emendamento in questo senso e lo mettiamo ai voti abbiamo tentato di limitare al territorio comunale però effettivamente ci sono delle casistiche che vanno anche al di là questo esempio potrebbe essere significativo mi aveva fatto anche altre domande consigliere ah decade decade in questo caso decade se i requisiti di elegibilità vengono meno decade qual'è? no? su quelle tematiche no basta allora ripeto le circoscrizioni sono è un'istituzione stanno nello statuto si fanno quando si fanno le elezioni del consiglio comunale e sono queste elezioni sono controllate e codificate da altri e non da noi noi recepiamo quello che altri controllano qui è un regolamento invece che può essere modificato giorno per giorno e quindi è molto più flessibile da questo punto di vista mai e poi mai si potrebbe dire a delle persone che sono state regolarmente elette finisce qua il tuo mandato finisce quando finisce il mandato di tutti invece nel caso di un regolamento si può anche intervenire e dire beh l'esperienza è negativa la interrompiamo insomma e si può fare molto più flessibile il regolamento sulle consulte rispetto alle circoscrizioni Grazie Assessore Consigliere Perfido altre domande? No Consigliere Palmisano altre domande? No 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 solo richieste di chiarimenti prego No volevo chiarire che l'Assessore Amazzer mi diceva ma allora tu non vuoi che votano gli extracomunitari? Non era questa la mia domanda No io ho detto che il punto B di quell'articolo 11 prevedeva che potevano essere eletti tutti gli iscritti all'anagrafe comunale io ho elencato coloro i quali potevano votare non ho detto che non voglio che votano gli extracomunitari perché è ben chiaro che possono votare No scusi non voglio escludere niente come anche il discorso il discorso di coloro i quali sono stati interdetti dai pubblici No no è già contemplato va bene ok grazie consigliere Solerino altre domande no allora cancellatevi per contesia ci sono altre richieste di chiarimenti consigliere Loperfido può cancellare per contesia richieste di chiarimenti mozione d'ordine visto che sembrerebbe che ci siano un po' di emendamenti da portare magari chiedere dieci minuti di pausa per stavo chiedere ecco bene se li chiede lei non so se volete chiedere volevo ricordare che se mi chiedete dieci minuti di sospensione per elaborare gli eventuali emendamenti io lo concedo però dovete chiedermelo lei me lo chiede bene allora sospendiamo i lavori per dieci minuti perciò riprendiamo alle otto e mezza grazie 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 signori grazie signori Grazie. Accomodatevi per cortesia, signori consiglieri. Grazie. Bene, allora possiamo ricominciare i lavori, chiedo al segretario se c'è il numero legale, vedo anch'io. Dichiaro aperta la discussione, invito i consiglieri a discriversi per la discussione. Ci siamo? Bene, consigliere Ribetti, prego. Facoltà. Grazie Presidente. Assessore Mazza, lei che è dotato di ottima memoria, immagino si ricorderà bene quanto io dissi nel corso dei miei interventi, che ne fece più di uno, nella discussione sulla soppressione delle circoscrizioni, dove ogni volta che lei diceva ma questa non è una delibera mia, è una delibera del Consiglio, io dissi no, attenzione ma Assessore Mazza, questa è una delibera sua, perché primo se ne era preso la responsabilità di riformare le circoscrizioni su un mandato del Consiglio e non l'ha fatto, e poi quando la Giunta non vuole qualcosa non lo fa. Adesso, io dissi che l'adità è come responsabile di quella delibera, che è propedeutica questa. E dissi anche un'altra cosa, vedrà che lei non vuole neanche le consulte e farà di tutto per portarci qualcosa di invotabile. E con piacere dico che avevo ragione, non per autoreferenzialità assolutamente, non è che pecchi così tanto di immodestia, ma perché era facile leggere quello che sarebbe stato la sua volontà, era palese, era palese perché lei, diciamo, si è prestato, mi passi questo termine brutto, su qualcosa era convinto forse, sull'abolizione delle circoscrizioni o l'hanno convinta, forse non era neanche tanto convinto all'inizio, ma l'hanno convinta. Però successivamente, capito che la sorte delle circoscrizioni era decisa, lei queste consulte non la voleva. Io lo interpreto così. E quello e la sua volontà l'ha trasposta, l'ha trasposta chiaramente nel regolamento che ci porta stasera, nella delibera che ci porta stasera, che è qualcosa che francamente lascia veramente a desiderare. Ma non è una delibera da lei, assessore. Perché io le ho riconosciuto fin da subito, a mio modo di vedere, una concretezza amministrativa. Perché anche negli ambiti dove magari lei, a mio modo di vedere, magari sbaglierò, era meno forte, mettiamolo così, è riuscito però con abnegazione, con spirito di sacrificio e con impegno, a mettersi a disposizione del Consiglio, a presentare sempre, anche mi ricordo sul primo bilancio che ci ha presentato, a presentare sempre le delibere in modo, diciamo, completo, magari criticabile sotto l'aspetto politico, ma dal punto di vista, a mio modo di vedere, tecnico, fatte con impegno. Cosa che questa sera assolutamente non ci siamo. Ma non ci siamo per le motivazioni che velocemente io, ma anche i colleghi che credo anche di maggioranza, hanno potuto vedere. Ma questo, ripeto, è dovuto al fatto che lei questa cosa non la vuole, l'hanno imposta, ce l'ha detto più volte stasera, me l'ha chiesto il Consiglio e l'ho fatto. Ecco, io ritengo che questa amministrazione stia concludendo nel modo peggiore, e qua passo al Sindaco perché è pur sempre il primo cittadino del referente politico di questa amministrazione, i propri cinque anni. Perché, vede, si poteva prendere ogni decisione, le proprie convinzioni, nel modo più libero possibile. Magari il più condiviso sarebbe stato bello. Però, quindi sulla sorta di circoscrizioni, dimenticavo il soggetto, però andare a fare un pastroccio di questo tipo, è qualcosa che francamente diventa poco capibile, ma io anche politicamente non capisco il motivo di questa cosa, perché se la vostra maggioranza, lei adesso mi dirà, o qualche collega di maggioranza che al posto di parlare si diverte a parlare sotto, magari mi dirà, stai andando fuori tema. No, non sto andando fuori tema, perché su questa delibera, come ho detto prima, ci sarebbe, veramente, c'è poco e tanto da dire, poco per la sostanza politica, tanto per le imprecisioni, le poca correttezza, cioè, veramente si può dire tutto. Ma questo io credo che sia veramente una questione politica, perché, per far contenti, ancora chi non l'ho capito, perché il fiume, come ho detto l'altra volta, le circoscrizioni non le hanno mai volute, e non capisco se per far contento qualcuno abbia voluto istituire sulla sorta del regolamento dei beni comuni anche queste consulte. Il PD mi sembra abbastanza, al suo interno, abbastanza frammentato sulla scelta di queste circoscrizioni, di queste consulte, di questo doppione inutile, a mio modo di vedere, poi di opera che è inutile. Quindi, avete concluso con questo pastroccio il vostro percorso amministrativo per quello che riguarda l'organizzazione dei livelli di democrazia partecipativa. Francamente non ce n'era bisogno delle consulte. Le consulte erano previste nel nostro statuto, le prevedeva lo statuto, da sempre, non se ne mai sentite l'esigenza. Perché, se io voglio dar credito a quanto da voi detto, nella spiegazione del perché delle consulte, io prima le ho chiesto a consulte tematiche, una delle mie ultime domande è stata, ma chi le nomina, la Giunta? Ce n'era bisogno? Se ce n'era bisogno poteva farlo anche prima. Prima perché non ce n'era bisogno? Perché ce n'erano le circoscrizioni? No. L'ha detto lei? No, perché l'ha detto lei prima il suo intervento, circoscrizioni, quando dice, io ho fatto una domanda, a volte può sembrare che io parli a caso, ma la mia domanda, mi spieghi la differenza tra circoscrizioni e consulte? aveva un significato ben preciso e lei me l'ha spiegato. Le circoscrizioni erano qualcosa di politico, erano dei parlamentini, le hanno sempre chiamate. Quindi si rifacevano, era quasi una trasposizione in piccolo dei gruppi del Consiglio Comunale che dovevano... No, invece le consulte è qualcosa di diverso, le consulte sono qualcosa che serve per stimolare la partecipazione, ma alla fine consultive, erano le circoscrizioni, consultive saranno le consulte. o sbaglio? Potranno incidere in qualcosa? No, non mi sembra che abbiano nessun tipo di... Ma quali compiti posso avere, vedi Assessore? Quali compiti... Non voglio più un dibattito con lei, ragiono a voce alta, insomma... Quali compiti possono avere delle consulte che non sono... che non sono votate dai cittadini? Spiego in che senso, perché quello che voi chiamate elezioni, non sono delle elezioni, quello che voi chiamate elezioni è un insieme di amici che decide all'interno di un determinato ambito territoriale, ci mettiamo in 11, non più in 10, ci mettiamo in 11, fermo una lista, va a votare 20 persone, come ha detto prima il consigliere Pedicini, e ci alleggiamo. Questo non è un'elezione. Questa non è un'elezione, soprattutto perché è talmente un regolamento sconclusionato, che non ci viene a dire chi deve votare e perché deve votare, perché noi qua abbiamo letto, io prima ho fatto l'esempio sui articoli 10 e 11, lettera A e lettera B, sono in contraddizione tra loro, perché basterebbe levarle la lettera A, possono votare tutti gli iscritti in un agro per la proporzione residente del territorio comunale che abbiano scopiuto il sedicesimo anno d'età, se non vuole limitarmele ai quartieri, se invece vuole limitarle ai quartieri, basta levare la lettera B, fare un piccolo aggiustamento, quindi quando dicevo il pastroccio, quando ho fatto prima domande chiarimenti e continuo a farlo, quindi queste non sono elezioni. Qua, per quelle territoriali sto dicendo, quelle tematiche io ritengo sia ancora qualcosa di peggio, sia qualcosa che non si capisce, perché la Giunta mi dica che la Giunta adesso non ha gli strumenti per chiedere dei pareri alle associazioni, lei mi dica una volta che un'associazione ha rifiutato un parere alla Giunta, se la Giunta è comune di Pordenone, qualsiasi altro comune, vuole il parere dell'associazione, dell'università, cosa fa adesso? Prende e lo chiede. C'è mai un'associazione che vi ha fatto la pernacchia, vedete, non vi rispondo? C'è bisogno di istituire le consulte tematiche per questo? No. Non c'è bisogno di costituirle, quelle tematiche. e le consulte territoriali altro non sono se non una sovrapposizione mal fatta di quelle che erano le circoscrizioni. Perché voi avete voluto pagare, farvi portavoce, usate il termine però, Sessore, Presidente, farvi portavoce, usate il termine che volete, di un malcontento che vedevate solo voi e una parte di voi. Io, pur riconoscendo da sempre al fiume coerenza nel non volere le circoscrizioni con pari forza l'ho sempre additati come responsabile anche del mantenimento delle circoscrizioni e della mancata modifica delle circoscrizioni perché se è vero che non le volevano e non presentavano nessuna circoscrizione è anche vero che in 15 anni hanno governato la città. Per 5 anni potevano fare qualcosa per creare strumenti di partecipazione diretta da parte dei cittadini. di partecipazione diretta da parte dei cittadini perché la grossa lacuna a mio modo di vedere forse la più grossa di questo di questo regolamento che ci portate di quello che avete voluto fare secondo me è proprio la mancanza di partecipazione del cittadino perché voi vi siete inventati però per favore scusate signori scusate scusate non riesce non riesce ovviamente il consigliere a portare a termine l'intervento se continuate a chiacchierare scusate vi chiedo un po' di silenzio prego consigliere stavo dicendo uno secondo me è una delle più grosse lacune è proprio la mancanza di partecipazione perché voi da parte dei cittadini perché creando questa cosa che avete scritto a partitica cioè voi avete privato la partecipazione diretta del cittadino non si capisce il motivo per il quale queste avete dovuto abolire le circoscrizioni che potevano piacere o non piacere si potevano si poteva incrementare il ruolo scusate però proprio davanti se meno vi spostate un altro no no più che altro perdo io il filo scusami no no tranquillo perché potevano piacere tranquillo no scusate ma scusate devo interrompere i lavori se dovete parlare potete uscire dall'aula per cortesia perché non riesce e non riuscirei neanch'io a proseguire scusi consigliere prego dicevo perché si può essere si poteva essere a favore o contro delle circoscrizioni si poteva dire quello che si voleva però bene o male era un strumento di rappresentatività chi veniva eletto doveva qualcosa fare magari poteva farlo incrementandogli il compito però almeno si poteva salvaguardare invece voi in nome di qualcosa che veramente non ho capito fate un duplicato fatto male arraffazzonato buttato lì giusto ripeto non ho capito per far contento chi e poi un altro aspetto assessore mi ha veramente molto rattristato lo dico da più di qualche tempo noi siamo schiavi anzi voi siete schiavi come maggioranza per le scelte che ci portate a votare di una paura di quello che può essere il costo della pubblica amministrazione perché io posso capire che non bisogna sprecare all'interno della pubblica amministrazione però viva Dio ve l'ho detto più di qualche volta quando avete levato le registrazioni la trascrizione dei consigli quando ci avete levato c'era un periodo che c'era io ho detto voi andate a toccare degli strumenti per eliminare i costi che sono assolutamente marginali quando poi si va a toccare nel concreto dove si deve tagliare non lo fate allora io posso accettare tutto ma andare a prevedere che delle persone che devono prestare il proprio lavoro mi riferisco ai seggi di queste consulte debbano lavorare gratis io ritengo che sia prima che un errore concettuale un'arroganza da parte dell'amministrazione ma voi perché dovete mettere in imbarazzo tre persone che vengono nominate che vengono scelte dalla conferenza capigruppo a doversi giustificare del perché non prestano il loro lavoro gratis all'amministrazione ma voi vi siete fatti un esame di coscienza l'ho detto già altre volte ma voi che dimettete i vostri assessori eletti per farli diventare assessori esterni e far entrare gli altri ma voi che andate a una giunta di otto persone per governare una città come Pordenone quando la provincia che ha i 300.000 abitanti ne aveva di meno ma un esame di coscienza ve lo siete fatti prima di pretendere dagli altri qualcosa voi che ci venite a fare le prosopopee mi riferisco anche alla maggioranza i capigruppi di maggioranza dovete tagliare non dovete discutere perché siamo le 11.40 non puoi parlare non puoi fare il tuo intervento ma per favore la democrazia credo che abbia giustamente dei costi ma allora vanno tagliati i costi gli sprechi ma vediamo adesso di non nascondersi dietro un dito e non diventare ridicoli perché io credo che qua stiate veramente sfiorando il ridicolo dovete imporre a dei cittadini e poi magari dovete imporre ai consiglieri comunali perché giustamente i cittadini vi dicono vacci tu a lavorare gratis no uno strumento se volete renderlo partecipativo dovete essere corretti e coerenti magari aiutate le categorie deboli volete accorparle se potete a delle altre elezioni no perché sono partiti che non ci deve essere e sospetto che si voti lo stesso giorno del consiglio comunale perché la paura qual era? la paura era il legame tra consigliere comunale e consigliere di circoscrizione la cosa che doveva essere cancellata allora non si può votare durante le stesse elezioni del consiglio comunale bisogna trovare delle altre giornate però se trovo delle altre giornate è una questione di costi allora devo prevedere che la gente venga gratis a lavorare fra un po' pretenderete che la tipografia vi stampi le schede gratis ecco vede assessore io credo che siano molti le criticità del regolamento che Dei ci ha portato ma ritengo che sia una cosa voluta una scelta voluta la sua ma perché ho assolutamente stima di lei io sono convinto che lei sta cosa l'ha scritta mi verrebbe da dire se non fosse per i tempi della convocazione ieri tra la pausa pranzo e l'inizio delle partite e non ne dico anche dove perché è talmente lacunoso questo regolamento e lascia aperti tanti spiragli che ritengo che sia una cosa difficilmente votabile anche da parte dei colleghi della maggioranza ma che però ci hanno abituato a ben altri voti quindi non dubito che probabilmente a qualche voto riuscirete a raccoglierlo quindi io invito veramente l'amministrazione non voglio entrare nel tec le mie domande e chiarimento come giustamente mi ha redarguito il presidente le domande e chiarimenti tra virgolette perché io credo di averle già evidenziate lei sa benissimo quelle che sono le criticità che io leggo in questo regolamento presidente quanto tempo ho? io so benissimo che lei ha capito quelle sono le criticità che io vedo in questo regolamento ma io non ho voluto volontariamente io non ho voluto non ho presentato emendamenti volontariamente perché io sono contrario a queste consulte io adesso non so se voterò contrario o me ne andrò per non partecipare neanche alla votazione ma in questo secondo caso Bianchini è dovuto al fatto che io ieri ero in ospedale io ieri ero in ospedale e quindi già non dovevo essere in consiglio comunale perché ti sto solo spiegando ti sto solo spiegando perché vado a casa quindi non so se non parteciperò al voto o se resterò per votare se ce la faccio resterò per votare ma ritengo che e perciò non ho presentato gli emendamenti ma deve andare qua è tutto regolamento e lei lo sa benissimo più di qualche volta stasera ha detto ai colleghi sarebbe da fare un emendamento siamo pronti a recepirlo eccetera perché dimostra che lei questa cosa non la vuole neanche lei allora assessore io invito questa volta posso invitare lei perché è lei che l'ha presentato a questa delibera a ritirarla a ritirarla quantomeno no 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 lei può fare sa perché può farlo secondo me può farlo perché lei stessa ha detto nella scorsa delibera l'amministrazione è stata invitata a presentare prima della scadenza del mandato non c'è un limite di tempo c'è l'unico limite temporale che è prima della scadenza del mandato noi abbiamo già calendarizzato altri consigli comunali io credo che col dibattito che c'è stasera e portando portando gli aggiustamenti che tutte le forze di politica che sono presenti qua hanno evidenziato non solo il sottoscritto il collega i colleghi di Forza Italia ma tutti anche quelli di maggioranza hanno evidenziato delle criticità io credo che sarebbe io credo che sarebbe un bel gesto da parte vostra ritirare questa delibera fatta male raccogliere in un giro con i presidenti dei gruppi con tutti i gruppi le criticità emerse anche giustamente che da quel voglio anche le coscrizioni raccogliere le criticità emerse e presentare un regolamento che almeno sia un regolamento passi il termine tra virgolette dignitoso da presentare non le dico che io le voterei magari lo voterò io magari non lo voterò però da consigliere comunale darò il mio contributo come ho cercato di dare stasera pur non condividendo questa cosa perché io ritengo che non ci sia nulla di peggio di fare qualcosa di fretta per far contento qualcuno non si sa ancora chi o giusto per il gusto di dire l'abbiamo fatto se siamo levati davanti e lasciare e lasciare alla prossima amministrazione le rogne derivanti da questa cosa perché questo qua è un atto che è un atto dell'amministrazione comunale di Pordenone e come tale ha valore quindi quello che noi anzi voi decidete stasera andrà a decidere sul regolamento di queste consulte per la prossima amministrazione io credo che un pastroccio non convenga a nessuno né a noi adesso né a voi adesso domani cioè chi sarà domani che amministrerà si troverà un pastroccio io ritengo che sia anche dignitoso e anche un atto di responsabilità da parte dell'amministrazione ritirare il regolamento fare un passaggio in commissione dove riterrà confrontarsi anche con i capigruppo e presentare qualcosa che sia presentabile che non sia una cozzaglia di righe buttate su un pezzo di carta ecco mi sentivo di dire questo quindi se non dovessi partecipare al voto credo non ci siano dubbi sull'interpretazione della mia volontà che questo regolamento venga cassato e che le consulte restino quello che sono adesso lettera morta grazie grazie consigliere consigliere Pedicini prego grazie presidente allora leggendo questo regolamento che voi avete estilato devo dire la sincera verità assessore mi sono così reso conto che forse bastava modificare un po' il regolamento delle circoscrizioni e ottenevamo la stessa cosa non c'era bisogno di chiudere le circoscrizioni e aprire un qualcosa che è tra virgolette non voglio dire la brutta copia ma sicuramente peggiorativo rispetto a quello che avevamo prima perché vede assessore le circoscrizioni per esempio nel momento delle elezioni non ci costavano assolutamente nulla perché le facevamo il giorno delle elezioni comunali e quindi tutta l'organizzazione era la stessa identica bisognava solo stampargli le schede per fare questo tipo di organizzazione qui invece ci troviamo nella situazione proprio perché avete deciso di non farla insieme alle elezioni comunali di dover organizzare le elezioni per le consulte all'interno che non è un fatto così semplice come la si vuole far passare non è l'elezione dell'associazione Pinco Palla che vi posso assicurare che anche fare le elezioni dell'associazione Pinco Palla non è semplice lo stesso con Porto perché lei vede quando le ho detto prima che gli aventi diritti al voto sono circa 7500 in ogni diciamo collegio elettorale lei 7500 schede le deve stampare le deve distribuire poi quelle di voto ma l'invito ad andare a votare lo deve fare deve studiare qualche cosa perché come le ho detto prima perché queste consulte siano rappresentative ma di cosa sono rappresentative perché se poi vanno a votare un numero minimo di cittadini alla prima votazione tutta questa operazione va in Francia allora forse non era meglio se proprio volevamo fare le consulte dare un organismo più snello rispetto a quello che avete pensato fariginoso così come l'avete pensato perché può esserci il nostro statuto lo prevede le consulte non è che non le prevede le vogliamo fare facciamole ma facciamole in modo snello impariamo un po' anche dai 5 stelle ogni tanto vogliamo farle in via telematica vogliamo farle via internet facciamoli votare sul sito del comune diamo la possibilità per esempio a tutti quanti e chi non ha il computer a casa può venire a votare presso l'ufficio anagrafe dove mettete un computer e chiunque può venire a votare cioè voglio dire c'è modo in modo quello che noi potevamo pensare se le consulte ci devono servire per come per come è detto nei primi punti per così non hanno nessun potere sono come le circoscrizioni potere consultivo hanno un potere di proporre delle cose sono le stesse che avevano le circoscrizioni non è che sono diverse se andate a leggere il regolamento delle circoscrizioni avevano un potere propositivo diciamo che le circoscrizioni esaminavano le delibere del comune le consulte non le esaminano non ci danno un parere sui vari argomenti mentre prima le circoscrizioni ce lo davano e bene o male erano rappresentativi di tutti i cittadini perché votavano in numero considerevole nel momento che votavano il voto e allora se proprio vogliamo le consulte potevamo pensare di farle in modo snello semplice che si possano costituire all'interno di un territorio non c'è bisogno che dividiamo per collegi perché avete reinventato una cosa complicata allora la potete emendare cercare di sistemare ma non avrà successo perché sarà difficile spiegare a della gente che deve andare a dare un parere che non lo vuole nessuno e che non serve a niente perché ancora una volta avranno chi è eletto in queste consulte avrà la stessa frustazione che hanno avuto i consiglieri di circoscrizione dove ci hanno messo tanta buona volontà volevano dare una mano volevano contribuire ma cosa le hanno detto quando sono venuti qui a parlare non serviamo a niente e voi dicevate e non servete a niente ma serviranno di più le consulte che vogliamo pseudo istituzionalizzare facendogli fare le liste facendogli eleggere organizzandogli noi le consultazioni ma serve effettivamente questa cosa allora vogliamo avere le consulte diciamo che liberamente i cittadini possono costituirsi in consulta invece di comitati si costituiscono in queste consulte sui vari argomenti sui vari temi e possono essere propositivi verso il comune lo possono fare anche le associazioni io vorrei ricordare quando in questo comune avevamo istituito la consulta delle associazioni che era anche una bella cosa avevamo aderito con le varie associazioni io modestamente ero anche stato il coordinatore di questa consulta parliamo ormai di vent'anni fa però questa consulta ha prodotto anche consulta delle associazioni quando è scesa in campo in difesa dell'ospedale civile di Pordenone con la riforma Fasola quella volta ha raccolto 12.000 firme a sostegno dell'ospedale civile di Pordenone che sono state mandate alla giunta regionale e la riforma Fasola ha dovuto cambiare la denominazione dell'ospedale civile di Pordenone facendolo passare da serie B come era stato individuato per chi se lo ricorda è diventato ospedale di riferimento regionale insieme a Udine e a Trieste mentre prima eravamo come Gorizia eravamo passati di categoria allora voglio dire le consulte delle associazioni quella volta ha funzionato ma si era autocostituita vorrei ricordare quando abbiamo fatto il congresso delle associazioni a Pordenone è durato tre giorni per tematiche divise tra associazioni di carattere sportivo di carattere culturale di carattere socioassistenziale e queste associazioni divise per categorie si sono riunite hanno dialogato ecco poter istituire per esempio una consulta delle associazioni liberamente che si può costituire e si deve costituire ma vi posso assicurare per chi come me sono ormai 30 anni e passa chi lavora all'interno delle associazioni le associazioni non vogliono essere istituzionalizzate vogliono essere libere di potersi ritrovare vogliono essere libere di poter parlare poi starà all'amministrazione decidere se ascoltarle o meno se tenerle in considerazione o meno ma quando lei li fa eleggere tenta di farle eleggere con le elezioni organizzate da voi su 7500 elettori mi dovete dire se vanno a votare 300 persone 500 persone 1000 persone su 7000 che senso ha? non sarà mai rappresentativa non si sentiranno mai rappresentativi della totalità perché il giorno dopo qualcuno gli dirà che rappresentano se stessi ma poi voi gli dite anche che non hanno il loro parere non vi interessa sostanzialmente sì ce lo date e allora tanto vale lasciare che ci sia la libera aggregazione in consulte si può pensare una forma di libera aggregazione all'interno del comune dove le consulte si costituiscono si formano e sono propositive nei confronti del comune degli strumenti per farle aiutatele se hanno bisogno di strumenti ma se non hanno bisogno di strumenti si gestiscano da soli allora nascerà questa partecipazione perché sarà una partecipazione spontanea dei cittadini verso l'amministrazione ma se la istituzionalizzate la complimete all'interno a determinati schemi che prima saranno loro stessi a non accettare perché si sentiranno frustrati come si sono sentiti frustrati i consiglieri di circoscrizione che pur erano un'istituzione all'interno di questo comune eletti con suffragio universale da parte dei cittadini attraverso liste liberamente costituite ecco questo a mio avviso è la riflessione allora capisce che emendare non emendare votare io non vedo questo tipo al di là delle osservazioni che vi ho fatto prima e che vi ho sollevato dicendo che già questo regolamento mi sembra un po' fatto troppo di fretta e ha troppi problemi ma il problema che io vi pongo è un problema di fondo sostanziale che porta a superare anche questo regolamento perché le consulte ripeto le prevede il nostro statuto ma diamogli una libera aggregazione diamogli una possibilità più snella di potersi costituire e l'amministrazione le riconosce le riconosce come libera aggregazione dei nostri cittadini per dare il loro contributo alla vita sociale e amministrativa di questa città ecco allora se noi le riconosciamo come libera aggregazione dei cittadini è più facile che si costituiscano e lo ribadisco per il resto non vi costerà poco farle perché così come è stato sollevato organizzare un'elezione per 7500 e 500 per una consulta ma quando le dovrete fare tutte e quante perché una prima volta bisognerà farle saranno 35.000 schede elettorali da fare 35.000 inviti ad andare a votare bisognerà farli ma cosa credete che poi questi qui nella lista si fanno la campagna elettorale non si fanno assolutamente niente però bisogna informare i cittadini e quindi bisogna mandargli qualcosa a casa e queste cose costano quindi queste elezioni così come sono state pensate costano più di quello che costavano prima e allora vedete che forse bastava togliere alle circoscrizioni il compenso se glielo volevate togliere aggiustare il regolamento cambiargli le funzioni che è molto simile a questo dargli gli stessi scopi che avete dato a questi e allora potevamo a costo quasi zero perché le elezioni neanche quelle ci costavano potevamo a costo quasi zero convertire le circoscrizioni in una sorta di consulte del territorio ecco queste sono le osservazioni che mi sento di fare in coscienza non perché sono favorevole o contrario vi posso assicurare che rispetto alla partecipazione dei cittadini sono sempre stato ampiamente favorevole d'altronde se non fossi favorevole non potrei essere in questo consiglio comunale a fare il consigliere d'opposizione ormai da vent'anni non potrei dedicarmi al volontariato e nell'associazionismo perché sicuramente se non fossi portato a questo tipo di forma però poi esiste la frustrazione quella di fare una cosa che non interessa a nessuno di fare una cosa che invece di essere apprezzata perché tu la fai non c'è cosa peggiore nel volontariato dimostrare a chi fa del volontariato che non ti interessa quello che sta facendo uno lo fa volentieri se vede che quello che fa è perlomeno ha un'utilità è apprezzata non serve dirgli grazie non serve fare niente non serve dargli premi ma almeno vedere che serve a qualcosa se non serve a niente finisce anche per non farlo più ecco allora per questi motivi io vi suggerirei poi voi ve la fate ve la provate e poi andremo a vedere in futuro però questa cosa impostata in questo modo ha tutta una serie di problematiche che emergeranno sicuramente nel primo tentativo nel primo approccio perché come dicevo prima ci sarebbe garantire per queste elezioni almeno un cuoro minimo perché esiste un cuoro minimo di votanti perché se no qualunque va bene andremo a vedere e un'ultima e quindi voglio ribadirlo e poi concludo veramente vorrei ribadire che forse possiamo trovare delle forme più semplici meno faragginose meno articolate e dando la possibilità ai cittadini con la libera aggregazione di poter contribuire magari in minima parte ma di poter contribuire alla vita amministrativa di questo comune e non dimenticate che la consulta delle associazioni quando ha funzionato autonomamente ha funzionato e ha dato anche i suoi risultati grazie grazie consigliere consigliere palmisano prego grazie grazie presidente io partirei dalla delibera approvata alle due di mattina del 16 di febbraio dove al punto numero 9 recita questa frase una volta attuata la soppressione della circoscrizione si procede a realizzare una convocazione anche itinerante dei consigli comunali poiché nella delibera è stata votata anche l'immediata eseguibilità e poiché leggo dai giornali che una forza politica che siede in questo diciamo in questo consiglio ha anche riportato questo fatto di fare consigli itineranti io vorrei avere chiarezza perché la gente chiede ma questi consigli itineranti si devono fare? essi si devono fare ci incominciamo a candidare dove li vogliamo fare in che quartiere per iniziare? poiché è immediatamente eseguibile questa delibera vorrei avere chiarezza su questo aspetto poi parlando parlando invece per quanto riguarda il tema specifico del regolamento delle consulte ho fatto alcune domande però non mi addentro diciamo all'argomento intanto condivido quello che ha detto il consigliere pedicini non posso fare altro che prendere atto dell'esito delle votazioni sulla soppressione di circosizioni ho ancora in mente la fotografia del tabellone luminoso che alle ore 2 del 16 febbraio riportava il risultato della votazione con 22 voti a favore della soppressione a questo punto non importa non importa più se quei voti rappresentavano la maggioranza naturale della coalizione di centro-sinistra che amministra la città da 15 anni o era frutto di maggioranze variabili o traversali quello che importa è che si sono raggiunti e superati i 21 voti necessari per approvarla delibere poiché tale risultato è stato ottenuto tutti quelli che non erano d'accordo compreso il sottoscritto e la lista che rappresento cioè Vivo Pordenone democraticamente dobbiamo adeguarci alla maggioranza e accettare il risultato anche se un consigliere che fino a poco tempo fa sedeva fra questi banchi più volte ha detto che chi ha i numeri non sempre dalla parte della ragione e anch'io la penso così pertanto io anche se con tanta amarezza e malinconia nonostante i ripetuti tentativi da parte del nostro gruppo di Vivo Pordenone di riportare il dibattito su un binario di maggiore ragionevolezza con divisione accetto tale risultato e cerco di guardare a futuro pur tuttavia mi sia consentito esprimere un riconoscimento doveroso a tutti i componenti dei consigli circosizionali attualmente in carica e a tutti quelli che hanno rivestito tale e tale incarico negli anni precedenti comprese alcuni di loro che ahimè oggi non sono più fra noi questo grazie mi sembra mi sento in coscienza di esprimerlo a nome mio e di tutti quelli che ci hanno creduto all'istituzione e al mantenimento per tutti questi anni di un organismo di democrazia partecipata decentrato sul territorio democraticamente eletto dai cittadini a suffragio universale che fin d'ora hanno operato nei vari quartieri e che a giugno cesseranno il loro mandato un grazie vorrei esprimerlo alla Presidente della Sessione Sud la quale su richiesta di un'associazione ha convocato un'assemblea pubblica nel quartiere di Villanova alla quale hanno dato la loro adesione portando la propria testimonianza i seguenti enti e associazioni associazione centroanziani per l'anone sud associazione feste in piazza associazione gloria lanza associazione genitori melarancia associazione salum smundi associazione oslus l'apa ansia panico e agorafobia associazione sportiva del tantissimo san gregorio associazione basket villanova avis comunale borgo meduna avis villanova avis valenoncello banca dei ricordi caritas parrocchiali di valenoncello caritas parrocchiale di san gregorio comitato delle vie dei pittori comitato catalpa cooperativa abitamondo gruppo marciatori valenoncello gruppo sportivo valenoncello gruppo giovani valenoncello istituto comprensivo sud e azienda sanitaria dipartimento di saluto mentale parrocchia cristo re parrocchia santo uldrico parrocchia valenoncello polisportivo villanova giudo libertas scuola sperimentale dell'attore ecco tutte queste associazioni sono intervenute in quell'assemblea hanno dato la propria testimonianza io mi auguro che da luglio tutti i rapporti che le circosizioni avevano con queste associazioni con questi istituti ma non solamente alla sud ma anche negli altri circosizioni possano continuare magari con qualche emendamento che si è già profilato prima questo è il mio diciamo rammarico però bisogna accettare la situazione com'è la ringrazio grazie grazie consigliere parmigiano consigliere lo perfido prego grazie presidente prometto che sarò breve anche perché praticamente tutto è stato detto nella seduta precedente e quindi al massimo si può sottolineare quanto questo processo lento inesorabile che sta portando avanti il centro-sinistra nei confronti di tutto ciò che rappresenta la democrazia partecipativa elettorale noi possiamo soltanto dire che non siamo d'accordo e dire che lo facciamo nell'interesse del territorio perché mi ricollego a quanto accaduto pochi giorni fa nel momento in cui Torrenti un assessore della vostra maggioranza dice orrate friulani mettetevi il cuore in pace che tanto basta Trieste come capoluogo unico regionale con la scomparsa delle province sarà Trieste a decidere le sorti di tutti allora si è sentito ovviamente il presidente della provincia di Udine prendere posizione forte nei confronti di questa dichiarazione si è sentito persino anche Onsel sindaco di centro-sinistra di Udine a dire guardate forse dal punto di vista politico è necessario un chiarimento se magari non proprio le dimissioni di un assessore che dice l'assessore della cultura che dovrebbe tutelare in modo paritario tutte le culture e tutto il territorio regionale quantomeno un chiarimento politico sarebbe necessario quindi centrodestra con Fontanini il centrosinistra con Onsel che fortemente dice guardate che il territorio da tutelare è tutto Pordenone non pervenuto cioè noi abbiamo il comune di Pordenone che non ha detto assolutamente niente la provincia di Pordenone che ormai è un organo non elettivo ma è un ente di secondo grado mi sarei aspettato magari a photo finish una reazione da parte del presidente dicendo guardate che anche se il disegno delle province è quello che vede la chiusura delle province del fluo Venezia Giulia bisogna comunque tutelare tutto quanto il territorio e invece Pordenone non pervenuta quindi noi ormai a chi ci sta facendo abbassare le orecchie ci sta dicendo di che morto dobbiamo morire continuiamo a stendere un velo rosso un tappeto rosso dicendo fate di noi quello che volete che tanto noi non diremo assolutamente mai niente contro di voi e quindi Torrenti può venire tranquillamente qua a Pordenone a dire che noi siamo un appendice di Udine e mi viene da sorridere perché quando prima il professor Gallo se non erro parlava del del policlinico San Giorgio disse e io non ho rapporti con il professor Gallo non ho assolutamente idea della sua eventuale posizione politica però disse no perché sapete all'epoca quando il policlinico San Giorgio è stato fondato noi eravamo sotto la provincia di Udine e quando hanno sentito che a Pordenone volevano fare una struttura ospedaliera di carattere privato insomma non è che le andasse tanto bene perché far nascere qualcosa fuori dalla provincia di Udine fuori e distante da Udine nel territorio di Pordenone era qualcosa che creava un po' di fastidio e allora nonostante le difficoltà che arrivarono da Udine a Pordenone siamo riusciti a creare il policlinico San Giorgio allora io chiedo se il nostro futuro sarà quello di dover andare a chiedere in ginocchio col cappello in mano chiedere scusi se sarebbe bisogno a Pordenone di fare qualcosina riusciamo ad avere magari due lire allora mi chiedo se questa democrazia che stiamo mettendo in piedi che state mettendo in piedi per cui le province non si votano più e andiamo ad abolirle le circoscrizioni e il territorio non viene più tutelato perché bisogna mettere tutto in mano e in mano a chi poi decide le sorti del territorio senza dargli però un mandato elettorale ma deve essere tutto basato sulla nomina da parte del re e quindi ha più potere chi è più vicino al sole e quindi in questo caso Serracchiani Torrenti e non si sa qua perché io mi aspetto che anche il candidato il candidato il candidato del PD a governare questa città mi aspetto che un giudizio politico su questa riforma lo dia perché caro candidato lei si è presentata ma ancora qua in consiglio comunale mi ha detto niente su questa riforma delle circoscrizioni su questa riforma delle consulte che non sono per niente democratiche non sono per niente avvolte a tutelare le esigenze del territorio e la rappresentatività democratica mi attendo di sapere se per lei va tutto bene questo perché se va tutto bene per carità allora fa parte di un disegno politico che è volto a indebolire il territorio di Pordenone è volto a far sì che decida sempre Udine se non Trieste e noi ci metteremo non so chi in corteo chi magari tirerà il freno a mano per dire che le cose non vanno bene per non farla troppo lunga dico noi non eravamo d'accordo con la cancellazione delle circoscrizioni perché pensiamo che fosse un modo per tutelare il territorio quando magari non era in grado di farlo la macchina amministrativa centrale quindi il comune dico soltanto che forse parafrasando un po' quel quel pezzo di Brecht che diceva prima vennero a prendere gli zingari poi vennero a prendere gli ebrei poi vennero a prendere gli altri poi vennero a prendere i comunisti non dissi niente perché non ero comunista alla fine vennero a prendere me ma non c'era più nessuno pronto a gridare perché non c'era più nessuno a difendermi allora ci stiamo facendo togliere la provincia ci stiamo facendo togliere siamo stati tra coloro i quali hanno tolto le circoscrizioni nel frattempo dicono che c'è soltanto un capoluogo che è Trieste nessuno qua parla e allora mi chiedo chi è che sarà quello il quale potrà continuare a difendere il territorio locale nel momento in cui si abbassano le orecchie di fronte a chi sta governando la regione in questo momento perché guai a voler dire qualcosa nei confronti della governatrice e poi e poi allora io chiedo scusa chiedo no scusi presidente chiedo scusa chiedo scusa e non ho assolutamente diritto a citare gli autori chiedo scusa non lo farò più no no anzi cercherò di parlare comprensibilmente compatibilmente con le mie competenze perché nonostante abbia fatto scuole che mi hanno portato la laurea sicuramente non sono assolutamente non sono assolutamente persona che può permettersi di citare autori senza chiedere il permesso preventivo al collega Salvadori il quale sicuramente prima di esprimere una posizione politica andrà a chiedere il permesso politico di dirlo alla Seracchiani ma su questo siamo ben sicuri di poterlo fare perché una lista civica che dice che difende il territorio e poi si va a mettere i piedi in testa su un candidato sindaco del PD sicuramente ha una visione gerarchica molto più rispettosa di quello che è la visione di quello del sottoscritto di quello del sottoscritto silenzio silenzio e dico o la politica è una cosa seria o la politica è una cosa seria per cui per cui fare il presidente della provincia e fare gli assessori provinciali è un impegno serio e importante tale per cui anzi secondo secondo una certa visione della politica fare il presidente della provincia e fare gli assessori provinciali non è una cosa così importante per cui lo potete fare nel tempo libero lo potete fare senza assolutamente avere una ricompensa o un rimborso per quanto riguarda la vostra attività politica di sicuro i cittadini diranno beh non è una cosa così importante fare il presidente non è così importante fare l'assessore tant'è che lo si può fare nel tempo libero e quindi capiamo che insomma la politica non è una cosa così importante che poi magari tutte le competenze siano ancora in mano della provincia o buona parte che poi il presidente e l'assessore debbano comunque fare delle delibere di giunta che poi gli assessori debbano andare a verificare ogni singolo atto per vedere se sono in linea con quelle che è il disegno della regione delle chiusure delle province che poi magari bisogna dedicare del tempo anche per seguire il territorio allora questo vuol dire che è un impegno ancora importante allora o per voi la politica è una cosa è un impegno serio o non lo è ma io non capisco non capisco onestamente se secondo la sinistra l'impegno politico sia una cosa importante o meno perché le circoscrizioni non servono e allora le faremo fare andremo a mettere le consulte le faremo fare sulla base di chi ha tempo magari anche risorse da poter sapere la propria tasca però è una cosa di secondaria importanza va bene così quello che succederà quello che nascerà lo vedremo in futuro però mi raccomando non diamoli niente nonostante magari facciano delle cose interessanti la provincia abbiamo già detto che loro che corrano si arrangiano lo facciano come possono con risorse proprie ma non è importante però però attenzione perché fare semplicemente perché fare semplicemente il candidato sindaco del centro-sinistra invece è così importante che forse addirittura bisogna dedicarsi a tempo pieno dal lunedì prossimo fino alle elezioni perché bisogna correre per tutto il territorio porderonese tale per cui bisogna anche probabilmente prendere dei permessi dal punto di vista professionale e potersi dedicare quotidianamente quindi per fare il candidato sindaco del partito democratico uno deve prendersi il tempo libero dal lavoro per fare invece l'assessore provinciale per fare il presidente della provincia per fare magari il come si chiamano chi fa parte delle consulte come si chiameranno ecco quello no non è assolutamente in carico degno di nota per cui verrà fatto verrà fatto su base volontaria anche dal punto di vista dell'impegno di spesa ecco allora di nuovo e chiudo veramente che una cosa del genere non è assolutamente condivisibile anche perché state dando il via veramente ad una politica che può essere fatta soltanto da chi ha soldi è fatta una cosa del genere da una maggioranza di centro-sinistra penso che sia un controsenso che veramente grida scandalo grazie consigliere Roperfido consigliere Piccinato prego grazie grazie presidente io questa sera sono un po' mareggiato nel senso che come Lega Nord avevamo dato un'apertura di credito alla alla maggioranza sulla questione delle consulte posto che comunque non avevamo votato per crearle perché esistevano già quindi era già un'entità esistente però comunque col voto sulle consulte avevamo dato un'apertura di credito per poter dire nonostante tutto comunque va bene ragioniamoci però poi voi avete fatto il vostro regolamento non ci avete mai consultati cioè capite che ovviamente questo è un testo che a noi non piace per molti motivi lascio stare l'impianto arzigogolato del macchinario cioè che è un impianto insomma abbastanza di difficile comprensione di difficile lettura e penso che anche un cittadino di normale intelligenza faccia un po' fatica a capire come funziona a candidarsi a farsi eleggere e c'è cioè è un attimo di difficoltà difficile insomma dal punto di vista elettivo ma all'interno del testo ci sono sicuramente due cose che proprio come Lega Nord non possiamo accettare c'è sicuramente la parte che è già stata sollevata dal collega Palmisano prima ma che poi ho visto non essere così contrario e invece noi lo siamo è il fatto di dire che possano votare tutti quelli che sono l'anagrafe cioè che discorso è noi non vogliamo che chi non abbia la cittadinanza non possa votare e neanche i sedicenni perché devono votare i sedicenni o abbassiamo l'età della la maggiore età a 16 allora va bene altrimenti si faccia tutti ai 18 anni punto non vedo queste grandi grandi questioni ma la questione degli immigrati che votino senza cittadinanza no tra poco saranno più loro come maggioranza quando sarà il loro momento voteranno adesso no chi non ha la cittadinanza l'altra questione è quella dell'articolo 3 del capo 2 cioè per me è assolutamente incredibile che ci sia scritto in un regolamento delle consulte una cosa del genere all'articolo 3 leggo le consulte nel rispetto di quanto previsto l'articolo 4 dello statuto provvedono a vado al punto G la palissiana e leggo testualmente promuovere e realizzare iniziative rivolte a favorire il dialogo multietnico lo sviluppo multiculturale e la coesione bla 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 ma stiamo scherzando questo qua deve essere un indirizzo politico che eventualmente il rappresentante della consulta democraticamente eletto può decidere di farsi portavoce non che deve esserci iscritta una schifezza del genere nel regolamento perché questo è un atto politico non è una scelta democratica perché allora scriviamo che nel prossimo regolamento per le elezioni al Parlamento si può candidare solo il PD perché più o meno l'indirizzo più o meno l'indirizzo sembra un po' quello cioè non lo so non lo so l'ultima questione è quella per favore vediamo di sbrigarci con questa questione perché abbiamo già perso sufficiente tempo sufficientemente questioni più importanti da valutare rispetto a questo grazie grazie consigliere consigliere Daniello mi rivolgo prima di rispondere a lei Presidente grazie comunque al collega Lopez ti do ragione Lopez se qui in questo contesto si si amichevole si parlasse effettivamente di politica e di democrazia ma in questo contesto non si parla né dell'uno né dell'altro Assessore Mazzer raccoglierà ho visto la corsa gli emendamenti sarà molto soddisfatto raccoglierà un bel voto e un bel applauso dal PD per questa cosa qui che non è né una toppa né nient'altro e non voglio parlare di circoscrizioni perché ormai le circoscrizioni sono chiuse questo non è né un surrogato né null'altro le consulte esistevano già potevate farle funzionare questo significa che non vi piacevano prima e questo significa che non vi piacciono oggi così non ha nessun senso quello che state andando ad approvare ha senso solo per sa per che cosa per la prossima corsa alle elezioni amministrative vi diranno sì tutti quelli che vorranno correre con questa maggioranza vi daranno sì l'ok quelli che vorranno mettersi in coda o in fila per dare l'ok a questo tipo di maggioranza o al PD e alle liste civiche e Lopez di nuovo non parlare di centro-sinistra per cortesia qui di sinistra non c'è assolutamente nulla né i valori costituzionali né nient'altro questa non è lungimiranza questa non è politica per cui per cui beh l'ho detto anche l'altra volta sono andata all'assemblea del circolo cittadino in cui si appoggiava la candidata la futura candidata sindaca la collega Giust è il segretario del PD provinciale ha espressamente detto che questa maggioranza non sarà di centro-sinistra ma PD e liste civiche per non sbagliarsi e confondersi con nessuno quindi non è di centro-sinistra ok infatti i liberali non appartengono alla sinistra questa non è un'elaborazione di una cultura politica che guarda al domani per cui votatevela votatevela votate gli emendamenti io non ci sarò e se ci sarò fino alla fine voterò contro grazie consigliera consigliere Cabibbo prego grazie presidente io questa sera a differenza degli interventi che solitamente sono abituato a fare non non entrerò nel merito di questa delibera e di questo regolamento perché onestamente il modo in cui si tenta di portare avanti questa costituzione delle anzi questa regolamentazione delle consulte perché in realtà le consulte erano già previste dallo statuto non mi sembra il modo corretto già l'altra volta o meglio lunedì scorso quando sono intervenuto nel merito dell'abolizione delle circoscrizioni ho detto che era una questione prima di tutto di metodo perché vede assessore Mazzere è vero che ci possono essere emendamenti miglioramenti che probabilmente questo regolamento lo avete fatto sulla scorta di un regolamento che probabilmente qualche altro comune ha adottato per cui che poi sia perfezionabile o meno questo non lo metto in dubbio per cui non voglio neanche intervenire e dire ma è meglio questo comma lì dobbiamo metterla così dobbiamo metterla colà il problema è questo il problema è che noi arriviamo qui oggi dopo aver approvato non con i due terzi che sarebbero stati necessari ma con una maggioranza risicata l'abolizione delle circoscrizioni con una maggioranza finta perché non è la maggioranza che sostiene questa amministrazione e adesso per non lasciare il vuoto totale una volta abolite le circoscrizioni ci si mette nell'ottica di dare questo contentino allora a questo punto da strenuo difensore delle circoscrizioni come sono stato dico meglio niente qui noi non riusciamo a capire qual è il vero senso di questa operazione se non quello di tappare un buco abbiamo fatto tre consigli comunali di cui due che sono costati il doppio perché abbiamo superato la mezzanotte per fare che cosa per risparmiare fate i calcoli di quanto abbiamo speso 8-16 almeno 20 mila euro per arrivare ad abolire le circoscrizioni e per approvare questa cosa che non riesco nemmeno a definire che risparmio ne avremo lo abbiamo fatto per risparmiare per risparmiare quei 18 mila euro annui che costavano le circoscrizioni meno meno del consiglio comunale dei ragazzi che ne costa 20 mila allora forse questo rientra come è già stato detto anche dai colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto rientra forse in un progetto più ampio che è quello di smantellare la partecipazione che è quello di un verticismo nelle decisioni che allontana non avvicina i cittadini alla politica quella politica con la P maiuscola e io non posso accettare che si parta da linee guida che sono state approvate nella precedente seduta del consiglio in cui si dice che queste consulte devono essere appartitiche perché credo nel ruolo politico dei partiti e credo che questo si possa fare a livello più vicino ai cittadini e non credo che questo porti detrimento alla politica anzi allora vogliamo fare del populismo vanno benissimo queste consulte vogliamo creare delle modalità che sempre di più mettano nelle mani di pochi la gestione e la partecipazione benissimo facciamo anche questo per cui avremo una giunta che potrà tranquillamente decidere se e quali consulte attivare o non attivare vedete questo rientra in un progetto ben preciso il progetto che ci ha portato purtroppo le uti al posto delle province per cui abbiamo e prima ancora delle province in cui i cittadini non possono eleggere i consiglieri ma come enti diciamo di secondo grado prima questo poi le uti per non parlare di quello che sta accadendo a livello nazionale anche lì con il senato non più eletto direttamente tanto valeva allora abolirlo e lasciare una camera solamente e con un presidente del consiglio che pontifica e legifera senza una maggioranza politica vera e senza soprattutto essersi sottoposto al vaglio degli elettori ma forse questo presto accadrà e ce lo auguriamo di cuore allora se anziché utilizzare tre consigli comunali avessimo affrontato soprattutto a fine di questo mandato amministrativo i problemi veri della città se ci fossimo confrontati sulle questioni prima qualcuno ha citato il problema dei profughi il problema del lavoro del commercio di una città che ha bisogno di ripartire sarebbe stato molto più utile e anche un confronto sugli strumenti per carità poteva starci ma questo confronto non c'è stato cioè questo regolamento delle consulte ve lo siete pensato ve lo siete scritto anche un po' male onestamente e quindi essendo un progetto non condiviso non pasticciato e non condiviso e pasticciato qui mi fermo perché come lo avete pensato e come lo avete scritto cioè da soli da soli se ce la farete ve lo approverete grazie consigliere Passoni prego grazie presidente cari colleghi e colleghe mi pare che dopo la grave votazione che è stata fatta lunedì scorso alle due di mattina oggi ci accengiamo a una votazione sulle consulte che che francamente non saprei da dove incominciare mi pare che sono state abbondanti le critiche che sono state portate in questa aula da colleghi io posso dire che siccome ero convinto e sono convinto che abbiamo buttato via il bambino con l'acqua santa un grave errore sinceramente non mi sento sì tutto l'acqua sporca tutto quanto abbiamo buttato via tutto io credo io credo che lo sforzo che avete fatto sia del tutto inutile del tutto inutile perché quello che c'era era diciamo efficiente poteva essere solo migliorato e invece si ripropone un qualcosa che non avrà neanche il conforto di una forte partecipazione perché è evidente che con un solo seggio per territorio come previsto all'interno di questo regolamento la partecipazione sarà inevitabilmente molto scarsa ed è un vero peccato perché ci riempiamo la bocca di partecipazione attiva di regolamenti bene comuni eccetera poi dopo facciamo questa cosa che mi dispiace perché purtroppo c'è anche il mio partito che la sostiene in questo modo sapendo che non risponde a quelle che erano le esigenze che avevamo segnalato ancora nel nostro direttivo tra l'altro questa riforma così chiamata io non la chiamerei riforma io la chiamerei contro riforma visto che se si voleva fare una riforma si faceva su quello che era il regolamento delle circolazioni che al momento non esistono più quelle potevano essere riformate senza evitando quella cancellazione assurda perché oggi poi ci ritroviamo una una sorta di consulta similare però non con tutte le caratteristiche democratiche e requisiti che che sono necessarie per poter pensare a una partecipazione attiva dei cittadini al voto e anche nel rispondere alle esigenze del territorio però questa è una responsabilità che vi siete presi e quindi io mi auro che abbiate ragione e che queste funzionino io certo vorrei riportare qui l'ultimo canto del cigno di una circolazione che peraltro funzionerà fino alla fine del proprio mandato l'altra volta perché naturalmente il parere questa volta l'avete chiesto e due si sono diciamo astenute dal dare parere perché non hanno avuto il numero legale Rorai e la Centro invece hanno risposto con un voto unanime negativo l'altra volta ho letto quello di Rorai mi sento di rappresentare quello che è stato il parere della circolazione Centro che qui vado a leggere naturalmente erano presenti nove votanti e quindi nove votanti tutti quanti contrari tra cui Sedran Dario Falce Orenti Farinella Celano Polesello Napolitano Gentile con questa osservazione che io qua vi leggo la circolazione Centro esprime in all'animità parere negativo al regolamento delle consulte esse sono uno strumento inutile tale regolamento è incoerente incoeso e presente in congruenze ed è illogico sotto diversi punti di vista è previsto ad esempio il suffragio universale e diretto per l'elezione delle consulte e contestualmente si rende tale suffragio impossibile dal momento che si prevedono solo soltanto 4 seggi o poco più in tutta la città aperti solo per alcune ore contro i 52 previsti per l'elezione del Consiglio Comunale quando tale suffragio non resta lettera morta ma viene concretamente garantito l'elezione avverrà inoltre in data diversa da quella per il Consiglio Comunale quindi anche se gli scrutatori saranno pagati non saranno pagati ci saranno comunque dei costi per il Comune del tutto evidenti l'elezione inoltre prevede un'unica lista partitica ma questo non assicurerà che le consulte saranno apolitiche quindi anche in questo caso la finità della norma sarà disattesa le modalità di presentazione delle candidature sono anch'esse incoerenti nel momento che si prevede la presentazione di una sorta di colori convite dichiarazioni dei propri valori e delle proprie competenze cosa invece non richiesta i candidati per le elezioni e organismi di rango superiore le consulte non avranno fondi a disposizione quindi esistono seri dubbi sulla loro possibilità di realizzare qualche progetto iniziativa con scuole e associazioni presenti sul territorio cosa che hanno fatto fino ad ora come circoscrizioni nel regolamento le si invita ad organizzare ad attuare moltissime iniziative ma non si concede alcuno strumento finanziario per realizzare ciò a cui le si indirizza il regolamento prevede anche solo quattro consulte per tutta la città stessi ambiti territoriali delle ex circoscrizioni che risultavano essere inadeguate e non pienamente soddisfacenti le esigenze territoriali secondo alcune dichiarazioni di consiglieri comunali che hanno approvato l'abolizione delle circoscrizioni tali ambiti infatti anche questa sera c'è stato un richiamo a farne sei tali ambiti che venivano giudicati come sbagliati per le circoscrizioni ora risultano perfetti per le consulte tanto da essere riproposti identici il regolamento inoltre appare nel suo insieme una brutta copia di quello delle defunte circoscrizioni e le modalità di funzionamento dei suoi organi sono nella migliore delle ipotesi approssimative ed imprecise per esempio scompare la possibilità di fare un'assemblea pubblica con i cittadini e si privilegiano i sondaggi non è neppure garantita alle consulte la terzietà e l'autonomia rispetto all'amministrazione ma esse vengono a dipendere direttamente da quest'ultima che potrà anche scioglierle come è previsto dall'articolo 9 credo esse sì al contrario delle circoscrizioni saranno veramente un inutile orpello ed un appesentimento burocratico per quanto concerne infine l'aspetto del risparmio che ha in parte motivato l'abolizione delle circoscrizioni sarebbe stato più efficace visti i costi parlamentini di quartiere ridurre gli assessorati o il numero dei consiglieri comunali cosa che è stata detta in quest'Aula in più occasioni anche dal sottoscritto viene criticata anche la modalità con cui si è intervenuto nella modifica dello statuto del Comune di Pordenone a soli 40 giorni dell'assognimento del Consiglio Comunale con l'approvazione di parte della maggioranza con il coinvolgimento della sola Lega impegnando la futura amministrazione nell'organizzazione della vita delle consulte l'approvazione in questa maniera in questi tempi di regolamento ci appare assolutamente inadeguata e anzi anche offensiva per la stessa democrazia la quale avrebbe richiesto l'inclusione e la discussione anche di altri attori politici le riforme istituzionali andavano promosse con il concorso di tutti in tempi più distesi per riforme articolate e ben fatte si aggiunge anche che non sono state neppure prese in considerazione ipotesi di riforma delle circoscrizioni secondo suggerimenti avanzati in passato dalle stesse circoscrizioni alle varie proposte esplicitate non è stata data mai alcuna risposta per tutte queste ragioni la situazione centro esprime l'unanimità parere contrario regolamento delle consulte e fa appello al consiglio comunale affinché i risparmi attuati vengono destinate al welfare e alla sicurezza dei pordenonesi così che si porti a termine quel processo riformatore ritenuto positivo della maggioranza che ha soppresso le circoscrizioni e che non ci sia l'istituzione un organismo cioè le consulte peggiorativo rispetto alle circoscrizioni e che renderebbe tale processo di ammodernamento innovazione comune risibile miserevole e farsesco questo è quanto hanno detto i colleghi della circoscrizione centro che io mi sono preso il dovere e il piacere anche di leggervi in modo che sappiate in coscienza quello che si si pensa diciamo in questi organismi che ripeto hanno dato un parere contrario in due circostanze e in altre due non hanno raggiunto il numero legale quindi non si sono espressi ma l'evidenza del diciamo del parere negativo è sotto gli occhi di tutti quindi non mi resta altro che dire che non questa riforma non avrà il mio voto favorevole grazie consigliere è stato in bagno forse ma comunque era lì fino adesso consigliere Piccin prego dica arriverà subito l'unico che l'ha visto l'ha visto lei no 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 calma consigliere consigliere lo perfido io non ho visto il segretario uscire con il capigruppo non prendo in giro nessuno e lei deve moderare i termini chiaro io non l'ho visto uscire lei non può dirmi che ho visto uscire il segretario con il capigruppo non l'ho visto uscire se non è in aula sarà uscito secondo me voglio dire la fisica credo che sia ragionevole questo neanche questo posso dire ecco il segretario è ritornato io non prendo in giro nessuno non è nel mio costume prego consigliere Piccin presidente scusi no no veramente mi dica date la parola al consigliere lo perfido chiedo scusa per i termini utilizzati grazie prego consigliere Piccin grazie posso posso grazie presidente ma allora credo che su questa su questo tema io mi sia già espressa l'altra volta però come dire sono stata un po' soleticata da questo interessante dibattito e prego i colleghi che non vogliono ascoltare di uscire perché io posso anche parlare da sola però mi dà un fastidio tremendo sentire tutto questo brusio sotto non è obbligatorio ascoltare anzi dicevo che è stato sono stata un po' soleticata da questo dibattito che secondo me nel tempo si sarà anche nel tempo intendo dire nelle diverse sedute che si sono dedicate all'abolizione delle circoscrizioni e questa sera all'approvazione di questo regolamento e si è affinato il pensiero e le modalità di pensiero le argomentazioni di questo consiglio comunale secondo me per certi aspetti si sono anche elevate perché è vero il consiglio comunale si occupa degli aspetti spiccioli della città è come giusto e corretto che sia però questo è un momento per parlare di come dire livelli istituzionali no e di di organi istituzionali e quindi e quindi non credo che molte altre volte abbiamo avuto modo in questo consiglio di parlare di questi argomenti la discussione che è emersa anche grazie al contributo dei colleghi che aggiungono sempre pezzi di conoscenza è interessante perché è emersa e prima faccio una considerazione politica prima di passare a quella come dire tecnica che sarà abbastanza sterile perché credo che tutto sia già stato detto è emerso dicevo che se per caso c'era una qualche forma di indecisione o di confusione rispetto alle varie collocazioni di chi si ricandida a governare questa città dopo 15 anni e io ero convinta che fosse un governo di centro-sinistra adesso invece abbiamo compreso che non è più di centro-sinistra ma che è del PD e quindi apprendo e domani che sono di nuovo a Trieste lo dirò se la vedo la Serracchiani guarda che tu non sei di centro-sinistra perché sei del PD sei la segretaria la vice segretaria del PD e non sei di centro-sinistra no quale onore la grandissima stima per Gianni ma girati pure dall'altra parte allora dicevo e questa cosa mi diverte un po' ma passatemi questo modo così un po' burlone di dirlo dicevo bisognerà comunicarglielo allora non prendiamoci in giro il sindaco che ha condotto per dieci anni questa città e che adesso sta in regione come vicepresidente ed è entrato l'altro giorno nel PD lui sì che non è di sinistra e non so come faccia a stare lì però ci sta perché ha contribuito a far vincere una coalizione di centro-sinistra e io per la composizione che vedo lì cara Daniello mi pare che sei tu che hai detto questo e la vedo di sinistra sai nelle decisioni in quello che hanno fatto e hanno deliberato oggi e a proposito di spending review e di soppressione di enti inutili vi comunico che oggi questa maggioranza di centro-sinistra ne ha fatto uno nuovo un ente culturale perché non ce n'erano abbastanza ok allora io non mi meraviglio non alzo le barricate l'avete fatto io non ho nulla da dire rispetto alla partita delle circoscrizioni perché da sempre la mia posizione è nota ma che però e l'ho detto l'altra volta e lo ripeto sta pure nelle cose che all'interno di una maggioranza così eterogenea si cerchi di trovare gli accordi per portare a casa un risultato che poi una parte li avete portati a casa grazie ad una parte delle opposizioni questo qui è il secondo step quindi i numeri non c'erano Renzi avrebbe messo la fiducia su questa roba qua come fa giù a Roma qui non si usa non si fa non è così importante adesso prego non c'è eh vabbè ma sai come non c'è non c'è perché non la volete applicare ma il signor sindaco con la sua maggioranza se vuole pone la fiducia e dice o si vota questo o domani io mi dimetto tutti a casa come non c'è conficoni tu che sei vecchio di politica più di me coraggio più di me sicuro eh sì eh sì io sono come dire un po' rimasta sovraesposta ma sono qua da un po' di tempo mi sono data da fare allora dicevo siamo arrivati al secondo step e questo su questo secondo step è parso alla parte quella meno come dire interessante devo dire che io non voterò questa cosa non è che non voterò voterò contro perché perché questa e riprendo il ragionamento di prima è la vostra mediazione è quello che serve a voi serve a voi perché avete ricostituito in qualche modo ciò che c'era sotto altra forma togliendo rappresentatività a ciò che c'era togliendo valore a ciò che c'era in cosa si distinguono queste consulte rispetto alle circoscrizioni nei costi sì ma io appartengo a quella filosofia di pensiero che ritiene che chi si impegna per il bene pubblico debba avere anche se piccolo un riconoscimento e non mi vergogno di dirlo quindi io sulla partita dei costi proprio non ci sono e non è la motivazione per la quale io sono sempre stata contraria alle circoscrizioni sui numeri non mi pare sui compiti ma leggo qua pareri non sulle delibere su altre questioni ma insomma formule consultive e quindi ci siamo allora su niente tolto una cosa rimessa un'altra e quindi i dubbi che sono sempre stati fin dall'inizio e per correttezza lo dissi subito al collega capogruppo Bianchini guarda che io su questa roba sì ti ho detto Mario subito non ci sono io condivido la vostra battaglia del vostro percorso sulle circoscrizioni però su questa cosa non ci sono allora senza fare tanti altri distingo e non farò nemmeno la dichiarazione di voto perché la anticipo adesso vi dico che appunto non le voterò così come non voterò questo regolamento così come non voterò nemmeno gli emendamenti che sono relativi a questo non sono con questo voglio lasciare a verbale il fatto che io non sono contraria alle consulte sono contraria alle consulte territoriali io sono favorevole alle consulte tematiche perché quelle sono sicuramente uno strumento di coinvolgimento chiaro e forte per il territorio e lì avremo trovato e troverete chi ci sarà accordo perché quando i cittadini hanno la necessità di portare avanti un determinato tema di qualunque forma da quella etica piuttosto che quella pratica piuttosto che quella sanitaria o che ne so o leggo questi giorni la petizione relativamente ai cedri ci sono perché quella è la vita vera della città e quindi sulle consulte tematiche avreste fatto un regolamento su quelle io l'avrei votato sulle consulte territoriali ha parlato prima di me il collega Passoni leggendo il verbale di una circoscrizione e ve l'hanno già centro sì ve l'hanno già detto loro io non è che come dire faccio parte di una circoscrizione ma per questa volta sottoscrivo in pieno quel tipo di visione e sono queste come dicevo le motivazioni per le quali voterò contro grazie grazie consigliere consigliere loro prego grazie presidente silenzio come sapete io il collega Passoni durante lo scorso consiglio comunale abbiamo votato contro la delibera di cancellazione delle circoscrizioni perché appunto non l'abbiamo ritenuta una scelta corretta per procedere a quello che sarebbe dovuto essere un percorso di riforma e non una cancellazione con una sostituzione con un qualcos'altro di cui appunto non sono chiare le finalità e le linee costitutive faccio una piccola premessa prima di entrare nel merito nel giudizio politico di questo strumento e riguardano le parole di un esponente della minoranza che ha rivolto al gruppo del PD al gruppo consigliare del PD prendendo a mio avviso interpretando male le parole di un collega del gruppo di cui faccio parte il collega Rossetto che siccome lo conosco insomma so che quando parla è animato da passione politica per cui non ho assolutamente intravisto la volontà che invece ha fatto emergere il collega della minoranza in cui nel PD saremo un gruppo granitico in cui non è ammesso il dissenso infatti sulla stampa io quando leggo nel momento in cui io e Passoni votiamo contrari che siamo i dissidenti resto perplesso perché il termine dissidente è un termine che si adatta in altri contesti si adatta quando ci sono dei regimi quando le persone nel momento in cui esprimono una contrarietà a quelle che sono le politiche di un governo o di un partito subiscono delle conseguenze pesanti e di questo abbiamo testimonianza in numerose casi della storia per cui insomma al termine dissidenti io preferisco magari un altro termine un termine diverso perché nel partito democratico noi appunto per il nome stesso che abbiamo insomma democratico e sia anche per la forma insomma che ci siamo dati che sta evolvendo negli ultimi anni che è quella di un partito fluido e non di un partito diciamo così lì organizzato rigido credo che essere in dissonanza ecco questo è un termine che mi piace la dissonanza non la dissidenza essere in dissonanza su quelle che sono alcune diciamo così linee politiche che vengono intraprese credo che sia un fatto anche positivo se vogliamo anzi se noi guardiamo anche lo statuto del partito vediamo che le minoranze vengono tutelate proprio perché viene incoraggiato una diversità di pensiero che altrimenti insomma potrebbe portare una deriva autoritaria io sono convinto che nessuno dei miei colleghi del gruppo consigliare intenda dare questo tipo di orientamento al partito quindi io ripeto su singoli argomenti credo che ogni consigliere nel gruppo di cui fa parte debba esprimere il suo diritto di critica politica a quelle che sono le azioni dell'amministrazione motivo per cui anche e ci tengo a ribadirlo abbiamo abbiamo sempre sì scusa un refuso sempre esercitando il diritto di critica politica sottolineiamo che la fiducia nell'amministrazione nel sindaco è immutata insomma per cui insomma ripeto rivendichiamo questo libero esercizio venendo adesso al merito della delibera ovviamente il mio giudizio non è un non è un giudizio positivo in quanto non è molto chiaro il tipo di riforma che viene portato avanti non è chiaro perché appunto non vengono enunciati diciamo così delle competenze a cui però non vengono contemporaneamente indicati quelli che dovrebbero essere gli strumenti finanziari per poi diciamo così eseguire e rendere attuative queste competenze insomma si dà l'idea che sia stato fatto un po' di fretta insomma che molti aspetti debbano essere perfezionati e come si sa la fretta è una cattiva consigliera io credo che anche la città avrebbe meritato di più avrebbe meritato uno sforzo maggiore e che si poteva si poteva effettuare più che diciamo così una creazione di un qualcosa di nuovo di un contenitore di nuovo che le cui linee giuridiche non sono ancora chiare si poteva attuare una effettiva e vera riforma delle circoscrizioni pertanto concludo insomma con un giudizio negativo su questo tipo di provvedimento grazie consigliere consigliere Rossetto prego signor sindaco signor presidente onorevole giunta e colleghi consiglieri avrei molto da dire con i miei colleghi di partito che si sono dissociati no distinti allora ci si può ci si può distinguere all'interno del gruppo però qua siamo in consiglio comunale e quindi tutti gli argomenti che vengono discursi in seno al gruppo in seno al gruppo e si prende delle decisioni anche una minoranza seppur irrisoria di due persone dovrebbero tenersi a quello che decide la maggioranza del gruppo dopo che è stato oppurato il tutto quindi certamente non mi sento né rappresentato né coinvolto dai miei due colleghi consiglieri del PD ecco poi per quanto riguarda alla delibera per quanto riguarda la delibera che stiamo discutendo ecco voglio dire che il regolamento beh intanto voglio ringraziare l'assessore perché veramente si è dato da fare e molto perché aveva ricevuto l'incarico di presentarlo nel più breve tempo possibile e il più breve tempo è questo qua anche perché nel prossimo mese abbiamo le osservazioni al piano regolatore quindi non c'è tempo per discutere altre delibere per cui o il regolamento veniva presentato in maniera veloce pur con tutte le lacune che ci possono essere pur con tutte le lacune che ci possono essere però è stato presentato anche in commissione e tutte queste lacune non sono emerse anche perché poi all'articolo all'articolo 23 sulle norme finali è detto specificatamente che trascorsi due anni dall'insediamento delle consulte il consiglio comunale abbiamo detto due anni ma può essere anche dopo un anno può essere anche dopo sei mesi può valutare l'eventuale mantenimento modifica o revisione quindi mi sembra che ci siano tutte le opportunità e abbiamo visto perché abbiamo modificato sia lo statuto abbiamo modificato sia il regolamento del consiglio comunale e non ci sono stati problemi questa qua è di prima istituzione quindi è chiaro che in alcune parti è lacunoso e quindi è chiaro che la prossima amministrazione comunale dovrà valutarlo ma certamente che sarà così altrimenti che cosa sta a fare se vogliamo in qualche maniera aprire aprire questo regolamento aprire la volontà di lavorare proprio partendo dalla base partendo dai giovani perché dobbiamo dire che attualmente nei consigli di circoscrizione i giovani non c'era non c'erano qual è la volontà di questo regolamento di far partecipare i giovani abbiamo detto si mette a votare dall'età di 16 anni nelle circoscrizioni non sono così ma io non voglio più parlare delle circoscrizioni ormai le circoscrizioni non ci sono più e quindi vogliamo parlare di questo regolamento allora il regolamento è presentato in maniera veloce perché altrimenti se non veniva presentato da questa amministrazione che in qualche maniera si era presa l'incarico oppure il consiglio comunale ha deciso di sopprimere le circoscrizioni se non avessimo presentato questo regolamento che dico sì le consulte e da quando è stato approvato lo statuto che sono là però nessuna amministrazione si è mai presa l'incarico di regolamentare quindi è stata questa amministrazione che si è presa questo incarico è stata questa amministrazione pur negli ultimi due mesi pur negli ultimi due mesi che si è presa questa briga come si è presa la briga di approvare tante altre delibere negli ultimi 4-5 mesi e questo va dato merito a questa amministrazione di aver lavorato fino alla fine e non di aver lasciato là e non di aver lasciato là con molte lacune e con tutto vacanza no abbiamo abbiamo deliberato il piano regolatore comunale adesso vogliamo votare le osservazioni proprio per non lasciare niente di intentato e poi tutti gli altri regolamenti che sono stati approvati negli ultimi due mesi che andrò più avanti o nelle prossime tornate ad elencare perché a questa amministrazione bisogna dare merito di quello che ha fatto non è io non sono d'accordo con quelli che dicono che non ha fatto niente ha fatto ha fatto e molto e dobbiamo e dobbiamo vederle e dobbiamo vedere quello che è stato fatto negli ultimi 3-4 mesi che naturalmente questo vuol dire essere partiti decisamente prima quindi questo regolamento viene presentato adesso proprio per non lasciare una vacanza nel senso che se non lo approviamo adesso si andrà naturalmente la prossima amministrazione comunale avrà 6 mesi 6 mesi solo per valutare e poi naturalmente dovremmo ridiscuterlo e quindi si andrà avanti altri 2-3 anni prima che vengano approvate le consulte comunali allora sì che è veramente ben grave questo invece già da adesso si può operare se viene votato ho detto prima è un regolamento nuovo che apre ai giovani e questo è un merito apre ai giovani perché privilegia i giovani di fatti gli articoli di fatti gli articoli dell'elettorato attivo e passivo citano che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età qui adesso ho visto mi sono arrivato mi sono arrivati degli emendamenti dove si dice che tutti coloro che sono iscritti all'anagrafi della popolazione da cui età si è compresa tra i 16 e i 18 anni è residente nel territorio comunale da almeno 5 anni cosa vuol dire che se io mio figlio che ha 15 anni e risiede con me da un anno o anche da 6 mesi ed è iscritto alle liste elettorali e all'anagrafe non alle liste elettorali all'anagrafe non può votare ma scherziamo allora come specifichiamo il consiglio comunale dei giovani sono giovani che lavorano all'interno del loro consiglio comunale e magari siccome ci sono anche delle medie e delle medie superiori diciamo che non possono votare perché perché non risiedono da almeno 5 anni ma scherziamo cioè io chiedo che questa io chiedo e chiedo il segretario se è possibile che questo emendamento venga votato per punti perché non sono d'accordo su questo e poi alla lettera D dell'articolo 3 dopo le parole assessore delegato aggiungere le parole assessore alle politiche sociali se vediamo quanto riguarda le funzioni che hanno queste consulte vediamo che sono comprese un po' tutte che vanno dall'urbanistica ai lavori pubblici poi certamente è importante e io sottolino è importante che si parla di promuovere e realizzare iniziative rivolte a favorire il dialogo multiennico lo sviluppo multiculturale e la coesione sociale tra tutte le persone residenti sul proprio territorio di riferimento ma vogliamo andare a vedere i volontari anche giovani che lavorano nei vari quartieri nei vari quartieri che portano avanti questi problemi ma vogliamo esalturarli ma scherziamo e allora poi questo d'accordo questo d'accordo questo d'accordo per quanto riguarda qua si parla di cinque anni qua si parla di cinque anni Roberto io parlo per me stesso che non ho portato ancora il mio cervello l'ho ammasso Toffolo no sei tu che hai fatto non si può scusate non si può interroquire col pubblico neanche il pubblico può fare commenti e intervenire il pubblico non può intervenire pertanto deve solo assistere in silenzio grazie prego consigliere allora allora tanto per dire che fra naturalmente l'articolo 3 che riguarda le funzioni dovrebbero rispondere non solo l'assessore delegato vabbè sì l'assessore alle politiche sociale l'assessore all'urbanistica l'assessore ai lavori pubblici tutti quanti gli assessori devono rispondere è per quello che abbiamo messo assessore delegato e poi è messo il sindaco e poi è messo anche il funzionario quindi mi pare che naturalmente può essere portato conoscenza di tutti buon andiamo avanti per quanto riguarda le consulte territoriali ha detto bene l'assessore certamente era emerso anche in commissione che 4 sono poco che era meglio passare alle 6 di precedenti o addirittura se vogliamo le 12 ancora precedenti però chiaramente non siamo ancora l'apparato non è pronto per questo perché bisogna rivedere tutta l'anagrafa e quindi è inutile farla se vogliamo far presto e se vogliamo che siano operanti bisogna certamente fare solo con 4 e poi nel giro di un anno e due si apporteranno naturalmente tutte le modifiche che vorrà il prossimo consiglio comunale per quanto riguarda la durata in carica anche questo qua è stato un lavoro che è stato discusso e mi sembra che i 3 anni siano quelli giusti che sono emersi proprio per non farli coincidere né con nessuna con nessuna elezione per quanto riguarda l'elettorato attivo o passivo beh devo dire che sono sì che sono presente con che sono presente con gli articoli 10 e 11 mostrami quello che avevamo va bene cioè che si poteva superare quella impasse dicendo che gli italiani possono votare a 16 anni e che gli altri devono essere residenti residenti da almeno 5 anni però anche questo qua anche questo qua non so perché io vado indietro con i tempi mi sembra che la giunta tondo abbia detto che è anticostituzionale perché allora avevano detto sia per quanto riguarda l'ATER o anche per quanto riguarda altre istituzioni che non è possibile mettere il tempo il tempo quindi poi per quanto riguarda l'elezione delle consulte mi sembra che mettere la data dei 6 mesi vada bene che siano elette in un unico turno a suffragio diretto vada bene che l'elezione dei componenti sia fatta su un'unica lista su un'unica lista va benissimo e che devono in qualche maniera per essere iscritti nella lista nella lista elettorale che devono essere sottoscritti da almeno 10 persone questo quindi questo mi sembra che sia una cosa giusta ed è l'articolo l'articolo 14 e il capoverso B scrive che i sottoscrittori devono sì devono sottoscrivere la candidatura con non meno di 10 persone e non più di 25 questo mi sembra che sia corretto anche perché se deve essere fatto su base volontariata su base delle associazioni certamente uno che va a vedere che va a chiedere il suo impegno e che venga sottoscritto da almeno 10 persone vuol dire che chiaramente mette la propria faccia e questo ripeto quello che ho detto 15 anni fa questo vuol dire apolitico e non è appartitico perché se è appartitico questa discriminazione la faceva il partito se gli eri simpatico potevi entrare non sono più simpatico perché adesso non sono più simpatico non sei più in lista questo non va benissimo vediamo come ha operato e io sono convinto che siccome viene basato sul volontariato se i volontari hanno operato bene sia nell'associazionismo sia anche singolarmente trovano le persone che sottoscrivono queste le 10 persone le trovano e non devono passare attraverso il valio dei partiti ecco perché è apolitico e non appartitico e penso di essere stato chiaro in questa maniera anche perché oltre alle associazioni poi abbiamo visto sulle finalità che naturalmente possono promuovere la collaborazione con istituti scolastici e quindi anche questo qua il volontariato si basa quante cose sono state fatte a contatto in collaborazione con la scuola anche da giovani in cui abbiamo chiesto i loro interventi si possono fare tantissime cose e io non voglio citare qua però si possono fare tantissime e quindi basta operare basta in qualche maniera porgere il proprio viso basta secondo me in questa maniera diamo anche un nuovo volto alla partecipazione alla partecipazione del volontariato diciamo che il volontariato sta allontanandosi dalla politica sta allontanandosi dai partiti benissimo stanno allontanandosi perché perché chiaramente non trovano spazio con i partiti invece in questa maniera diamo spazio a loro e si parte veramente da una pirabile che si può partire dal vertice verso il basso che dal vertice verso l'altro per cui in questa maniera i giovani veramente entrano a lavorare e entrano a collaborare con l'amministrazione comunale e prendono veramente di amore e di petto quello che vuol dire politico che è la più grande missione che un giovane può fare e quindi non abbiamo paura di queste cose votiamo e andiamo avanti grazie grazie consigliere consigliere Solarino prego grazie presidente faccio un brevissimo discorso introduttivo partendo da un presupposto cioè perché stiamo discutendo di tutto questo questa sera io sono andata un po' a monte della questione nel senso che oggi come ben sappiamo siamo di fronte ad una crisi della democrazia rappresentativa e tutto quello su cui si sta lavorando è di fatto l'adeguamento ad un percorso ad un processo che porti alla promozione e allo sviluppo di una democrazia definita appunto deliberativo partecipativa e cosa è successo nel 2007 poi nel 2009 quando nel resto di Italia sono state soppresse le circoscrizioni nelle regioni a statuto ordinario è successo che appunto quelle regioni lì si sono dovute si sono trovate a dover individuare nuove modalità di partecipazione modalità appunto innovative capace anche di intercettare la creatività diciamo pure dei territori e quindi ad individuare nuove modalità di coinvolgimento di proattività di stimolo dei cittadini e allora quella delle consulte lunedì scorso sono state soppresse le circoscrizioni oggi appunto ci stasera stiamo discutendo su un regolamento delle consulte e le consulte così come peraltro erano le circoscrizioni cioè sono soltanto una delle tante formule e modalità di partecipazione non esauriscono la partecipazione to cure e tanto che nel resto d'Italia tuttora si continuano a sperimentare ulteriori formule di partecipazione tra queste il bilancio partecipativo io ho provato a raccogliere un po' di informazioni e la letteratura è concorde nell'affermare che a tutt'oggi non esiste perché poi la questione fondamentale è un'altra ancora cioè parliamo di partecipazione fine a se stesso partecipazione efficace cioè una partecipazione che sia poi in grado di influenzare le scelte politiche perché è di questo che stiamo poi parlando e appunto la letteratura non è concorde nell'individuare una modalità piuttosto che un'altra tra quelle più efficaci parrebbe essere il bilancio partecipativo che come sappiamo è nato a Porta Alegre e oggi il comune di Milano lo sta adottando ma è un percorso molto complesso e molto strutturato ci sta provando come ho già detto prima il comune di Zoppola ben venga che nel regolamento delle consulte si accenni a questo è chiaro che però poi bisognerà fare un lavoro a parte così come ripeto le consulte non esauriscono il ragionamento sulla partecipazione già quasi è cominciato a farlo con l'approvazione del regolamento sui beni comuni infatti se ne parla all'articolo 2 questa è una conseguenza cioè la partecipazione è un percorso è un'evoluzione è anche un'integrazione di più modalità quindi ripeto è l'occasione così come lo è stata per le altre regioni negli anni passati di sperimentare individuare nuove formule nuove forme sperimentare significa provare quindi non è una verità assoluta non è un dato assodato che questa formula sarà quella più efficace e cos'altro il punto sollevato da più consiglieri anche da me appunto riguardava la mancanza di un diciamo di un criterio che garantisse l'equilibrio di genere per questo proposto un emendamento che preveda la doppia preferenza di genere quindi recuperando diciamo quella che è la normativa nazionale per le elezioni regionali e anche per quella comunale ringrazio anche i cofirmatari e ritengo che insomma si prova proviamo così come lo stanno facendo le altre regioni così come lo stanno facendo gli altri comuni a sperimentare percorsi percorsi innovativi il punto fondamentale al di là della demagogia è quello di riuscire a fare cultura della partecipazione a promuovere cittadinanza attiva a stimolare le persone i cittadini ad occuparsi del bene pubblico a capire che lavorando per un miglioramento della qualità della vita nella propria città di fatto ne beneficeranno loro stessi quindi è un ragionamento molto più ampio ripeto che ha dei presupposti culturali che non si esaurisce non finisce non termina stasera con con l'approvazione o meno di questo di questo regolamento grazie grazie consiglio Solarino bene nessun altro iscritto dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo nessun iscritto dichiaro chiuso anche il secondo intervento do la parola all'amministrazione per eventuali prego 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 così è giusto posso? sì bene allora tutto il lavorio che insomma è evidente sotto gli occhi di tutti per raffinare questo regolamento è un po' la testimonianza è vero della velocità con cui è stato fatto ma le osservazioni di tipo politico che sono state dette stasera e anche l'altra volta circa un percorso di riforme quasi di tipo accentratore che velocizza troppo che toglie spazi di democrazia non è esattamente quello che sta alla base delle intenzioni di questo regolamento tutt'altro perché ci sono stati cinque anni per lavorare su una riforma delle circoscrizioni è stato un percorso reso difficile e impossibile evidentemente la buona volontà finale di cercare di lavorare in una direzione che non è per niente di soppressione di spazi di democrazia perché insomma il PD è testimoni di un percorso interno difficile però siamo arrivati alla conclusione che le circoscrizioni seppure storicamente molto significative per un processo storico di partecipazione abbiano fatto il loro tempo ma a noi sembra che questa proposta sostitutiva che tra l'altro rischia stasera di non passare e poi dirò alcune cose su questo punto è una restituzione di democrazia a un territorio che ha cambiato completamente fisionomia questo regolamento come tutti i regolamenti ha dei passaggi sui quali possiamo stare anche come stiamo facendo ore e ore e ore io lavoro nella scuola abbiamo regolamenti qua guardo diversi colleghi che sono bellissimi ma se i regolamenti non hanno anima e su questi regolamenti poi non ci si spende per attuarli possiamo anche fare cose perfette che sono assolutamente così lasciano il tempo che trovano questo regolamento ha un accento fortissimo nella parte delle finalità che va proprio a intercettare i bisogni nuovi delle comunità dei quartieri dei territori che a nostro modo di vedere non sono più rappresentabili con il sistema partitico ecco perché uno dei punti fondamentali che abbiamo chiesto voluto è proprio l'essere questo nuovo organismo a partitico nel senso che questo regolamento vuole mettere in sicurezza possibilmente un ente intermedio che ci deve essere ma non sulla linea dei partiti ma sulla linea di creare di cercare di creare collegamenti comunità in quartieri che rischiano sempre di più di essere fatti da persone sole isolate che se sono fortunate vivono in associazioni frequentano associazioni ma molto spesso le associazioni sono poco collaborative e non sono in rete allora anziché essere questo regolamento una fine della democrazia è tutt'altro è un esortare tutte le persone che vivono nei quartieri ad andare oltre i partiti perché non sono più rappresentativi magari guarda caso le persone vorrebbero partecipare ma il partito non le rappresenta allora secondo noi un regolamento di questo tipo è proprio l'occasione offerta a tutti i cittadini per dire io sono qua ho voglia di mettermi a disposizione assieme alla parrocchia alla scuola alla società sportiva in un dinamismo diverso ed è veramente diverso quindi perché le circoscrizioni sono state abolite non è la stessa cosa circoscrizioni consulte assolutamente no le circoscrizioni mantengono parlamentini le consulte invece vanno verso una direzione non più di rappresentatività partitica ma di partecipazione diretta ed è una cosa molto diversa e noi crediamo che i bisogni sociali non partitici dei territori siano la componente essenziale che questo regolamento cerca di intercettare quindi è un regolamento che è più aggiornato rispetto a quelle che sono le realtà di profondo cambiamento dei quartieri con innesti abitativi nuovi con bisogni sociali che sono la prima necessità che queste consulte dovrebbero cercare di intercettare grazie grazie consigliere giusto vedo che allora il secondo intervento pensavo non ci fosse molto grosso interesse perché così invece vedo che sia va beh consigliere Freschi prego grazie presidente allora noi giungiamo alla conclusione di questo percorso un po' un po' molto articolato direi che avrebbe chiesto tempi e metodi diversi i tempi potevano essere cadenzati in questa settimana una commissione che non avrebbe fatto la commissione questa sera qua ma l'avrebbe fatta in un'altra sede dove c'era la possibilità di parlarsi di chiarire e di approfondire alcuni aspetti perché se gli emendamenti sono stati presentati sono stati presentati alla luce di proposte che sono venute avanti e non per il capriccio di fare un dispetto a qualcuno e anche possono essere scritti male perché io mi rendo conto che l'emendamento che ho scritto è stato il frutto il frutto di una mediazione che voleva dire un'altra cosa e che ne è partito da un declinato della delibera completamente sbagliato perché non si scrivono due cose che sono in contraddizione o è l'una o è l'altra o sono gli iscritti all'anagrafe della città che hanno compiuto i 16 anni o sono gli iscritti alle liste elettorali siccome il punto A mette gli iscritti alle liste elettorali al punto B mette gli iscritti all'anagrafe che hanno compiuto i 16 anni quale delle due cose è giusta? uno dice una comprende anche l'altra ma allora qual è che domina? domina il punto B non il punto A domina il punto B allora se siamo arrivati a fare un emendamento è perché qualcuno ha sollevato questo problema e il primo emendamento diceva una cosa che andava sulla linea del punto A del comma il secondo emendamento ci è stato chiesto non modificato in qualche altra maniera e l'abbiamo modificato ma con un semplice accorgimento che purtroppo non è stato scritto e quello che è scritto è scritto male l'ho scritto io tra l'altro la mia calligrafia ma l'ho scritto sull'indicazione anche di quelli che erano intorno per questo dico che la commissione sarebbe servita adesso e non prima non prima prima si chiudeva il percorso quartieri sì circoscrizioni sì o circoscrizioni no fatto questo con animi un po' più calmi che ormai si era capito qual era il quadro si andava ad affrontare in commissione un regolamento sulle consulte invece no si è voluto fare prima in modo tale da blindare la cosa e adesso siete alla ricerca di una maggioranza diversa da quella che gli ha votato la soppressione delle circoscrizioni allora cerchiamo di chiudere la partita perché sono abbastanza stanco tra le altre cose io sono disponibile anche a ritirare l'emendamento così così come come è stato come è stato impostato perché aveva un unico scopo un unico scopo che andava nella direzione anche di quanto ha detto in altre circostanze il consigliere salvador noi siamo per includere non per escludere questo non voleva escludere qualcuno questo voleva che però il percorso partecipato fosse un percorso responsabile pertanto se io chiedo e voglio che siano i giovani perché sono stato uno dei primi a dire quando abbiamo cominciato a discutere di queste cose abbassiamo l'età di colori quali possono partecipare portiamola a 16 anni sono stato uno dei primi a dirlo per cui non mi rimangio le cose come questa sera qualcuno ha detto assolutamente no soltanto che voglio che queste cose siano partecipate e mi pare giusto che chi partecipa a questo ed è venuto abitare a Pordenone da qualche anno possa avere un percorso partecipato soprattutto se questa persona viene da un altro paese ma non è un discorso discriminatorio è semplicemente un discorso accompagnatorio voglio che questa persona abbia fatto un ciclo scolastico conosca la lingua conosca il nostro paese conosca le nostre istituzioni conosca i nostri percorsi questo volevo con questo emendamento solo questo per cui non sono i cinque anni non sono i due anni sono il fatto di acquisire la consapevolezza di far parte di una certa comunità per cui si allontani assolutamente da me questo tipo di pregiudizio di avere qualche discriminazione nei confronti di qualcuno perché proprio non sono il soggetto a cui si possono attribuire queste cose pertanto io sono disponissimo a ritirare quello che è stato scritto perché lo spirito era un altro era quello che coloro i quali partecipano alle consulte e che abbiano 16 anni possano in qualche modo essere consapevoli di ciò a cui partecipano era solo questo lo spirito che volevo in qualche modo sottolineare questa sera e poi le cose bisogna scriverle bene o solo una cosa o solo un'altra perché l'articolo B della del del il comma B dell'articolo sulle elezioni è quello che sostituisce l'altro capiamoci perché chi partecipa e ha compiuto 16 anni è chiunque che ha iscritto l'anagrafe chiunque ok siamo chiari su questo altre cose non mi pare che abbia da aggiungere la cosa che mi dispiace è che solo per aver aggiunto l'assessore delle politiche sociali anche su questo veniamo attaccati allora quando si è parlato di consulte si è detto che le consulte servivano soprattutto a declinare una situazione diversa che negli anni si è in qualche modo manifestata siamo partiti dai consigli di quartiere negli anni 70-80 dove si parlava soprattutto di urbanistica e lavori pubblici siamo arrivati alle situazioni attuali dove le circoscrizioni hanno in primo luogo gli aspetti sociali gli aspetti che riguardano le scuole gli aspetti che riguardano gli anziani gli aspetti che riguardano la comunità per cui mi pareva logico al di là di quelle che saranno le funzioni dell'assessorato alle politiche sociali in futuro mi pareva logico che ci fosse un passaggio di sensibilità in questo senso avevo chiesto questo emendamento semplicemente per un ulteriore passaggio di sensibilità per cui mi pareva che questa sottolineatura poteva anche essere evitata ecco non ho altre cose da aggiungere pertanto questo è lo spirito con cui noi ci accostiamo a questo tipo di deliberazione non lo facciamo per dare i voti e per poter arrivare ai fatidici 21 voti lo facciamo con convinzione sapendo che però questa cosa poteva essere fatta meglio e scusate questa cosa la sottolineo poteva essere fatta meglio e non lo dico a lei assessore perché lei la sua parte di lavoro l'ha fatta dico che tutto poteva essere affrontato in una maniera diversa più consapevole più responsabili invece si è voluto fare le cose in fretta escludendo qualcuno perché bisognava raggiungere assolutamente quel risultato e quelle cose poi si pagano e questa è una situazione che poteva essere evitata scusi consigliere prima di mi può dire che cosa decide di fare questo ammendamento siccome non posso fare l'ammendamento e non neanche nessun'altra intenzione di stare qua a scrivere e riscrivere altre cose secondo me ci sono due aspetti uno lo deve fare l'amministrazione decidere come si articola quell'articolo se col coma A e col coma B o solo con un coma sia nell'elettorato passivo che nell'elettorato attivo l'altra cosa io ritiro io ritiro i due punti che riguardano l'articolo 10 e l'articolo 11 per cui l'avventamento parte dal secondo coma dell'articolo 23 lei ritira i punti 1 e 2 quelli delle lettere ho capito invita l'amministrazione a porre rimedio a quella incongruenza dovrei stare a riscriverlo di nuovo chiedo se gli altri se gli altri presentatori consigliere Sperotto e Parmigiano sono d'accordo va bene facciamo riferimento all'emendamento numero 3 va bene grazie consigliere Piccinato prego grazie grazie presidente stava quasi per accadere il miracolo che per due consigli comunali di fila avessi votato qualcosa presentato da maggioranza ma se purtroppo il collega freschi ritira l'emendamento almeno questa parte di emendamento non posso votare questo emendamento che era significativamente filo leghista in un qualche modo perché in ogni caso in ogni caso è l'intenzione e sono le cose che dice la lega quello che ha detto il collega freschi solo in merito a questo aspetto nel senso che per noi per poter dire la propria voce imparare il territorio recepire quella che è insomma l'humus culturale del territorio in cui una persona arriva che sia da qualsiasi luogo al mondo quindi anche dal vicino Veneto piuttosto che da Trieste si sposti a Pordenone eccetera ma comunque c'è il senso di comprendere il territorio nuovo dove si va ci si mette un po' al di là che sia un giorno piuttosto che vent'anni in base magari alla provenienza della cultura completamente diversa o comunque più vicina è chiaro che dal punto di vista di un immigrato che può arrivare qua dipende in quanto tempo si può integrare dipende dalla distanza culturale che ci può essere stata se ce la voglia si può integrare ce la può fare e lì insomma un tempo adeguato ci sta perché riesca ad integrarsi credo che senza nessun tipo di pregiudizio di cattiveria di ragionamento che se le stesse parole le diciamo noi diventano becere se le dicono loro hanno un aspetto positivo sociale inclusivo di inserimento di più bello qualcosa di estremamente intelligente se le stesse cose diciamo noi invece qualcosa di aberrante e privo di ogni senso beh io questo giochetto non mi presto poi riguardo a quello che può uscire questa sera con questo voto dalle consulte mi riservo ci riserviamo penso eventualmente di modificarlo con la prossima amministrazione perché sono sicuro che potrà mettere mano eventualmente all'impianto se non dovesse piacere non mi piace l'impianto di questa proposta anche per il fatto che c'è un utilizzo comunque dei presidente mi scusi c'è un brusio non da poco adesso non mi piace l'impianto di questa proposta anche per il fatto che si era stabilito fosse a costo zero ma invece mi risulta leggendo il testo che si attiveranno comunque i dipendenti comunali per svolgere tutte le funzioni di controllo di certificazione si stamperanno i manifesti quindi a costo zero non è per cui anche qui non è la stessa cosa che era stata votata l'altra volta riguardo invece alla consigliera giust che ha fatto un'uscita che non ho gradito rispondo alle sue parole di restituzione di democrazia riguardo a queste consulte che se per lei democrazia erano le circoscrizioni allora non doveva toglierle prima di tutto e seconda cosa avete tolto anche le province ma di cosa parlate quindi rimango davvero esterefatto di fronte a queste parole qua perché almeno io l'altra volta ho detto coerentemente che per me le circoscrizioni non avendo alcun tipo di potere non sono democrazia sono una voce che può essere data assolutamente che magari può avere un certo tipo di peso per questo avevo anche dato un'apertura di credito per le consulte ma che invece non non si ritrova poi esattamente nel tuo pensiero e quindi io rimango addirittura esterefatto di questo cortocircuito che è avvenuto nella questione ma il tema era abbastanza spinoso forse a quello che sarà il candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra non lo so qualcuno mi spieghi cos'è il PD perché adesso di sinistra non lo so perché si confondono anche loro o destra non lo so cosa sono bisogna capire però non è uscita bene su questa questione anche perché dire che il centro-sinistra ha avuto cinque anni per modificare questa partita e non ci è riuscito alla fine perché è questo il succo del messaggio non è un bel messaggio dire che la tua maggioranza non è stata in grado di fare quello che avrebbe dovuto fare e che aveva il tempo di fare e non era una questione di sicuro di alto di alta difficoltà mettere in mano un regolamento per le circoscrizioni o le consulte di una semplice riforma e l'ultima cosa che mi ha lasciato davvero perplesso di quello che ha detto e da cui io mi aspetto secondo le sue parole coerentemente le sue dimissioni da PD questa sera è il fatto che ha detto assolutamente che i partiti non sono più rappresentativi e siccome lei si candiderà a rappresentare questa città mi aspetto che questa sera si dimetta dal PD grazie grazie consigliere Piccinato consigliere Sperotto prego sì grazie presidente allora volevo dire due cose quando sono arrivato questa sera e anche l'intervento è fatto in precedenza a me sinceramente non è proprio un provvedimento che mi piaccia tantissimo e quindi inizialmente veramente avevo un'idea fortemente negativa su quale anche potesse essere il mio voto dopodiché cercando anche di venire incontro l'esigenza di dare a questa città comunque un ruolo dove anche dei giovani e extracomunitari sono felice di questo è uno dei motivi forse l'unico che mi induce che mi indurrà a votare positivamente quindi a votare a favore di questo provvedimento ho cercato in qualche modo abbiamo cercato di trovare delle mediazioni anche con Vivo Pordenone e quindi di cercare di elaborare delle proposte sono passate le proposte anche cioè sono state elaborate poi vedremo se passeranno meno delle proposte che ritengo comunque migliorative su un provvedimento che però ha grossi problemi perché comunque i problemi nascono all'origine quelli che avevo preannunciato prima cioè una modifica ovviamente di un'istituzione del comune fatta male nei tempi e anche dal punto di vista politico non gestita benissimo nel senso che si sono chiuse le circoscrizioni senza pensare a cosa veniva dopo e se non arriva qualcuno a metterla a pezza queste consulte nemmeno ci sarebbero probabilmente non ci sarebbero state e oggi vediamo che la Lega che fino al giorno prima era felicissima di questo provvedimento oggi attacca tutti quanti ecco Piccinato sono felice che in queste consulte ci saranno gli extra comunitari proprio sono felice quindi con tutte queste nonostante tutte queste riserve il mio voto sarà favorevole grazie consigliere consigliere Bianchini prego grazie presidente mi allaccio proprio all'ultimo intervento fatto dal consiglio Esperotto nel dire che quando abbiamo ragionato per portare una delibera di consiglio comunale sulla soppressione delle circoscrizioni abbiamo ragionato contestualmente anche a dare risposta proprio ad un ragionamento di rappresentanza di partecipazione per essere sinceri fino in fondo come fiume a noi andava assolutamente bene la chiusura delle cioscrizioni e ci eravamo fermati lì con questo ragionamento grazie al PD e a Vivo Pordenone abbiamo capito che comunque la partecipazione dei territori era poteva essere una risorsa se si trovava uno strumento adeguato e quindi insieme agli amici della maggioranza abbiamo trovato che all'interno dello statuto questo organo questo strumento c'era parlando con l'amministrazione abbiamo identificato le consulte quindi il passaggio è stato assieme non è che si è deciso prima le cancelliamo e basta e mi deve credere su questo consigliere Sperotto perché proprio già lì abbiamo cominciato a ragionare su questo organo inoltre sul discorso consulte la velocità della quale parlava il consigliere Freschi è reale ma è dettata almeno a parere nostro per dare risposta a chi pensava che l'idea unica della maggioranza era quella di cancellare e basta le circoscrizioni e quindi in maniera rapida ci siamo trovati più volte con l'amministrazione per portare per far vedere che non è che a noi interessava solo quella parte ma concretamente creare lo strumento che fino a quel momento non era stato costruito però dopo ha ragione lei consigliere Freschi forse una partecipazione allargata magari con più commissioni poteva starci questo ce lo siamo detti e ha pienamente ragione ha ragione anche quando dice e anzi noi sottoscriviamo quanto lei ha detto è vero quel passaggio che per noi ha un senso capiamo anche però quindi parlo dell'articolo 11 10 e 11 e sottoscriviamo quanto lei ha detto siamo convinti che quello che lei dice è corretto e cioè che un ragionamento anche sulla popolazione straniera ci debba essere noi siamo convinti che i cittadini straniere devono essere presenti anche nella vita cittadina come lei ha dichiarato prima con gli stessi tempi e metodi che lei ha dichiarato quindi assolutamente d'accordo quanto lei ha detto ovviamente pienamente d'accordo quanto ha detto da Danina Giuste e da Elio Rossetto e ringraziamo in questo caso si ringraziamo i lavori di questo consiglio comunale in queste due ore perché hanno fatto sì che proprio Roberto Freschi ha trovato un errore all'articolo 15 eravamo tutti convinti compresa l'amministrazione che avevamo messo correttamente questo articolo e cioè che i costi che le persone che fisicamente sarebbero stati ai seggi e quindi avremmo fatto gli scrutinatori eccetera erano i consiglieri comunali e invece per uno sbaglio è rimasto una parte che non avevamo concordato assieme e quindi grazie all'attenzione e alla lettura attenta del consigliere Freschi ha fatto sì che l'articolo 15 porta Freschi Palmisano e Sperotto porta a un cambiamento corretto a cui noi abbiamo più volte insomma siamo confrontati con la metà su questo detto questo detto questo noi siamo assolutamente convinti che questo strumento è diverso dalle cioscrizioni lo dico a il consigliere Ribetti che purtroppo stava male per andare via ma lo dico anche agli amici dell'opposizione è diverso non è una brutta copia perché le funzioni sono in parte uguali in parte maggiorate basta leggerle sicuramente la parte è quella più sviluppata di fare riferimento adesso il consiglio Sperotto e cioè di promuovere un dialogo inter etnico come multietnico assolutamente siamo assolutamente convinti che questa cosa deve esserci altrimenti il nostro territorio diversamente potrà avere delle tensioni sociali che non rispecchiano l'essere di Pordenone l'altro passaggio è importante avere delle consulte che siano sia territoriali sia tematiche su questo non è una barzalletta non è una cosa messa lì per anacquare il ragionamento per far rientrare dalla finestra le circostituzioni no è pensato perché noi siamo convinti che quei cittadini che per qualche motivo hanno da riportare delle istanze all'amministrazione e che oggi avvengono attraverso la nascita di comitati spontanei possono trovare un organo formalmente istituzionale che viene preso in considerazione in maniera più che formale dall'amministrazione ci possa essere e quindi le consulte tematiche danno risposta anche a questo anche a questo senso di partecipazione in alcuni casi di consiglio di protesta eccetera eccetera a partitiche e questa è la cosa importante a partitiche e mi stupisco e su questo faccio un piccolo inciso perché è stato detto che le circoscrizioni sono state votate anche con i voti della Lega e questo era uno scandalo ecco io non credo che sia uno scandalo più volte dei consiglieri di circoscrizione anche qui dentro è stato detto che in circoscrizione non c'erano partiti che tenevano c'erano ragionamenti diversi di territorio ancora di più allora che questa votazione di superamento delle circoscrizioni e di creazione poi delle consulte vada a vedere una trasversalità dove anche la Lega vota quindi non è uno scandalo anzi più volte qui in quest'Aula si è chiesto a gran voce di riuscire a fare delle votazioni delle azioni assieme i costi l'ho detto prima sì per noi questo era importante ed era importante proprio e stavamo sbagliando stavamo perché l'articolo 15 era sbagliato proprio perché i costi di una elezione di elezione di consulte vengono assorbiti dalla gratuità del lavoro dei consiglieri comunali oltre a tutto il discorso di gratuità al gesto di presenza eccetera e dopo sono diverse le circoscrizioni perché sì stranieri e sedicenni possono parteciparvi questo è importantissimo l'ha detto meglio di me il consigliere Sperotto quindi è importantissimo quindi siamo assolutamente convinti di questa operazione e come diceva Daniela Giust questo è un primo passaggio per modificare quanto noi in questa città portare il nostro primo assieme a questa amministrazione il nostro primo tassello per un cambiamento in alcune parti ormai datato dello statuto dei regolamenti che ha questo comune grazie grazie consigliere Benchini consigliere Daniello prego sì sarò brevissima perché il collega Passoni ha riferito la voce della della circoscrizione sud io della circoscrizione centro 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 scusate io invece voglio riportare che per la prima volta la circoscrizione sud e la circoscrizione torre non ha raggiunto il numero legale per dare parere alle consulte e a questo regolamento è la prima volta quindi qualcosa ha detto anche il non parere e la cosa che hanno detto e che hanno urlato anche in commissione tutti i consiglieri è stato quello che non li avete ascoltati mai perché hanno presentato più di qualche prodotto da loro qualche lavoro prodotto da loro il grido che aveva che ha lanciato un po' arrabbiato il collega Freschi e lo capisco lo capisco soprattutto perché era stato proprio l'assessore Mazzer a rispondere ad una mia interrogazione sulle circoscrizioni a dire che sarebbe venuto a un regolamento collegando collegandosi con il supporto e l'aiuto di tre assessorati quello le politiche sociali quello il suo al decentramento e quello del assessore Zille per cui nessuna grande distacco da quello che avevi chiesto Roberto la cosa poi che mi disturba un po' mi disturba è questa che è vero e sono d'accordissimo con il collega Sperotto si dia voce anche alle persone che sono qui residenti che hanno che sono giovani come ha detto Freschi e anche agli emigrati agli immigrati beh date però risposte prima che a queste cose anche alle persone che non hanno ancora la cittadinanza e che sono sotto all'ex fiera e che non hanno neanche il bagno per andare a fare i propri bisogni che sono è un segno di civiltà prima che di democrazia purtroppo questa è una brutta pagina di Pordenone è una brutta pagina sindaco è una brutta pagina e non sono solo all'ex fiera alle sette e mezza domenica mi sono accorta che c'era un bel po' di gente davanti alla prefettura eccetera quindi non dico che solo il comune però allora mi appello a lei come presidente di provincia metta insieme i sindaci i vari sindaci nell'assemblea dei sindaci e troviate una risposta a questa povera gente beh allora non sarebbero per strada però guardate 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 è secondo me una brutta storia di Pordenone questa è una brutta storia per la storia di Pordenone che non è solo quella di accoglienza ok grazie consigliere consigliere salvador prego solo per una piccola cosa nei confronti di Roberto ci tenevo sì certo che però Sonia questo comune come tutti i comuni d'Italia sta facendo la parte anche di quello che dovrebbe fare lo Stato quindi accusare Pordenone che è una brutta pagina la gestione dei profughi che gli sta capitando di Cappecollo come tantissimi altri comuni mi sembra poco corretto da parte tua non accettare che questo comune ha fatto moltissimo come molti altri come molti sindaci detto questo in realtà io intervengo solo non perché mi amassioni l'argomento cicoscrizioni sì abbiamo perso moltissimo tempo a mio avviso parlando di questo strumento io non vado matto per gli strumenti vado matto per la cultura che poi anima gli strumenti perché il rischio è che anche le circoscrizioni potevano essere al tempo un argomento di partecipazione che è una cosa molto diversa come ha specificato sia in questo contesto sia nello scorso consiglio comunale la neoconsigliera Solarino certo è se questo strumento delle consulte avrà la stessa come dire cultura e interesse da parte della politica a essere utilizzato per coinvolgere i cittadini alla partecipazione di questo governo anche le consulte potranno fallire certo è che bisogna dare fiducia alla possibilità che queste consulte a differenza delle circoscrizioni possano invece portare i cittadini a governare insieme all'amministrazione in un contesto di sussidiarietà la comunità e pertanto anch'io personalmente questo dopo lo farà il capogruppo però personalmente voterò a favore certo è che però vorrei ricordare vorrei ricordare Freschi una cosa mi è dispiaciuto che fosse così arrabbiato e me ne dispiace e vorrei ricordare anche il bel gesto che ha fatto Roberto Freschi quando non so forse tre anni fa adesso non ricordo forse addirittura quattro non ho memoria proposi la cittadinanza simbolica poi la trasformammo appunto in cittadinanza consapevole coinvolgendo il consiglio comunale dei ragazzi e le scuole in un come dire in un percorso di accompagnamento ai valori dei diritti e doveri all'interno della comunità quella volta proprio per evidenziare come Roberto Freschi fu uno delle persone che credette più di tutti in questo durante il se non ricordo male sindaco durante la consegna dei diplomi di partecipazione a questo percorso da parte dei ragazzini del consiglio comunale dei ragazzi l'amministrazione ha adottato poi di una costituzione che è poi il basamento sul quale noi ecco ricordo che fu l'intervento personale di Roberto Freschi a permettere di dare ai ragazzini stranieri perché non nati in Italia o nati in Italia ma da gente stranieri la costituzione italiana su cui noi basiamo i nostri diritti e i doveri quindi lo volevo ringraziare di questo ancora una volta grazie consigliere pedicini prego grazie sarò brevissimo devo dire è vista anche l'ora tarda guardate che ho ascoltato con molta attenzione un po' tutti i vostri interventi e devo dire la verità che in parte sono condivisibili alcuni e devo dire che anche quanto veniva espresso quello di coinvolgere anche i nuovi residenti del nostro comune è giusto e positivo sono d'accordo anch'io non si meravigli il consigliere vicinato perché effettivamente se fanno parte della nostra comunità vanno coinvolti nella nostra comunità non si può pensare che sono dei corpi estranei e escluderli sarebbe ancora peggio sono d'accordo anche con quanto diceva lei prima nel suo intervento di dire vogliamo superare le circoscrizioni e perché ormai erano obsolete e dobbiamo pensare a un organismo nuovo bello interessante però poi non sono più d'accordo quando traete le conclusioni di questo e arriviamo a questo tipo di regolamento bene le consulte tematiche ma per fare una consulta tematica rifai le votazioni di tutta la di dove la tematica a Borgomeduna della Sud rifacciamo il superarete lì del 500 aventi diritto che sono gli elettori perché se andate all'anagrafe come avete appena detto benissimo bisogna votarle perché passano sempre attraverso una votazione non si costituiscono a da sole bene sì ho capito però vedete tutto questo il modo faragginoso di portare avanti questo tipo di operazione si andrà a scontrare con la realtà di quando dovremmo realizzarle e farle allora in tutta questa vicenda c'è del buono e c'è del meno buono allora io mi domando e arrivo alla conclusione di quello che volevo dire con questo intervento qual è la fretta di doverlo mancano due mesi solo la presentazione delle liste quindi diciamo dal mese che precede le elezioni e che entriamo in campagna elettorale c'era il tempo per fare le cose in un certo modo e farle anche bene e mettendo insieme anche forse delle idee delle proposte che positive sono emerse in più punti dal mio punto di vista all'interno di questo consiglio comunale allora mi domando perché questa fretta di raffazzonare un regolamento buttato lì di corsa degli emendamenti forse non del tutto condivisi ma portati avanti per forza e forse anche in parte eliminati perché questo non si è riportato e mi rifaccio a quanto diceva anche il consigliere Preschi su questo perché lo ha detto anche lui prima richiamandoci perché dobbiamo arrivare fra pochi minuti a votarla così com'è e poi ce la teniamo e poi la dovremmo cambiare e non potevamo fare un bel lavoro e magari prepararlo meglio il tempo c'era non succede niente qual è il motivo politico per fare questa cosa di fretta allora il motivo e veramente concludo del mio intervento era questo un invito alla maggioranza e all'amministrazione di avere un momento di ripensamento avete capito che i numeri ci sono li avete per approvare questo regolamento si può fare un lavoro forse più approfondito e fatto anche bene per carità non sarà il massimo mai però si può pensarlo in modo meno come posso dire approssimativo di come vedo queste carte e forse si può arrivare a una votazione anche più allargamente condivisa anche se ci sono i nomi se non lo volete fare se volete continuare ad andare avanti così io così non faccio neanche più la dichiarazione poi di dichiarazione di voto la faccio già adesso io vi invito a ritirarla e ripresentarla con tutti gli aggiustamenti che sono emersi in modo positivo all'interno di questa consiglia e questo sarebbe cosa buona e giusta come diceva qualcuno se non lo volete fare volete andare con questi emendamenti con questo direttamente al voto io non parteciperò al voto perché non mi sento di dare un voto né positivo né negativo e quindi darò una non partecipazione al voto così ho fatto anche la dichiarazione di voto e non intervengo no grazie grazie consigliere nessun altro iscritto dichiaro chiuso secondo intervento l'amministrazione prego signor sindaco bene ci avviciniamo al voto che sarà interessante dal punto di vista del risultato sicuramente però vista anche l'ora consentitemi una certa franchezza il primo passaggio è il seguente io mi auguro veramente che la prossima amministrazione di qualsiasi colore essa sia metta a mano le commissioni ora io ho capito che la commissione commissione consigliare ovviamente io ho capito che probabilmente anche a tante altre cose ma focalizziamoci realizziamoci un attimo su questa io ho capito che la discussione che riguardava questa proposta che noi abbiamo fatto su un incarico molto preciso del consiglio comunale sia stata discussa in una commissione che se ben ricordo era prima come sequenza prima della votazione con cui poi abbiamo chiuso le circoscrizioni eccetera eccetera però però quello era il testo ok con tutte le sue incongruenze con tutte le sue sfaccettature non è che sia stato cambiato è stato discusso anche un certo qualche giorno fa qualche settimana fa allora siccome non è la prima volta che noi ci troviamo qui praticamente a discutere a discutere delle cose del consiglio quasi partendo da zero anzi certe volte quasi diventa negativa la discussione in commissione mi chiedo veramente ma lo lascio lì come 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 osservazione a chi verrà a ministrare dopo di noi come riuscire a rendere le commissioni più efficaci perché al momento in questi anni di questi ultimi cinque anni non so forse le esperienze precedenti erano diverse però alla fine l'arricchimento e il motivo insomma per cui le commissioni vengono fatte che dovrebbero essere quelle di agevolare la nostra discussione renderla più politica sfrondare il tutto da quelle che sono le osservazioni e le incongruenze i refusi eccetera eccetera non l'abbiamo azzeccata una volta quindi ogni volta qui siamo partiti da zero per rifare la nostra discussione dall'inizio che va bene fa parte del confronto che è sempre augurabile in questa sala consigliare ma secondo me in un certo senso è un gran peccato perché abbiamo perso l'occasione di rendere queste cose più solide e sicuramente anche più condivise entriamo poi per un attimo nel merito della nostra discussione io vi avevo se ben ricordo proprio durante un consiglio comunale mi ero permesso di dire che il tentativo di andare a superare le circoscrizioni era basato su tre concetti che era quello di riuscire meglio a usare la conoscenza distribuita riuscire a usare meglio l'intelligenza collettiva ed avere un apprendimento collettivo non è che me le sia inventate io queste robe esiste un libro che parla di partecipazione e di partecipazione di tipo digitale e queste tre frasi queste tre chiavi di lettura sono quelle che vengono svolte in questo libro che è abbastanza interessante anche secondo me un po' paranoico sul fatto di partecipare solo attraverso i social network ecco noi abbiamo cercato alla fine con un giudizio probabilmente sicuramente non condiviso di superare il fatto che le circoscrizioni erano arrivate ad un momento un po' sclerotico cioè alla fine se voi cercate di percorrere quei tre temi che ho citato secondo me non venivano largamente svolti c'era un po' il gioco delle parti o forse le croste non so come chiamarle ma insomma al sovrapporsi di di storia di modalità eccessivamente troppo normative secondo me avevano levato molto di quello che era la reale partecipazione che veniva citata da molti di voi che le circoscrizioni l'hanno fissute anni fa quindi il tentativo di questo regolamento è di andare in questa direzione e dire dove sono effettivamente come riuscire a rendere la partecipazione più efficace e più profonda abbiamo visto abbiamo pensato che ci fossero due aree quella dei temi specifici che nascono nel senso che se dobbiamo fare un'opera importante di tipo sulla viabilità decidere cambiare le caratteristiche di una determinata scuola ecco cose di questo tipo decidere sugli impianti sportivi di una determinata zona ecco questo è un tema in cui noi vedevamo la partecipazione delle associazioni e dei cittadini più interessati utili proprio a mettere insieme questa intelligenza collettiva di cui sentiamo sempre più l'esigenza perché i confronti portano a tanta materia grigia che poi in qualche modo può essere utilizzata con grande profitto quindi quello delle queste consulte tematiche a mio avviso è un fronte largamente da esplorare e basandosi soprattutto su un principio che normalmente negli incontri pubblici e spesso anche all'interno delle circoscrizioni esisteva una dissimmetria di informazione tra i partecipanti cioè gente che sapeva benissimo tutti gli aspetti e la maggioranza invece che non li conosceva che alla fine a mio avviso non portava a questa come dire sintesi delle conoscenze e dei contributi di tutti il tentativo di queste consulte tematiche è far sì che queste cose siano bisogna dimostrarlo poi con la sincerità dell'applicazione possono portare effettivamente all'utilizzo migliore dell'esperienza e dell'intelligenza di tutti d'altra parte il filone diciamo più istituzionale chiamiamolo così quello di territorio aveva la valenza di comunque creare un punto di ascolto continuo sì molto spontaneo che consenta nei vari territori in cui la città si identifica ma che possono essere modificati nel tempo di avere questo continuo sorgente di informazioni di confronto con l'amministrazione che se lo strumento viene sentito dall'amministrazione dovrebbe continuamente sollecitare questo canale allora queste due aree erano alla fine sono state espresse in questo regolamento ok bene male perfettibile ma certamente sicuramente perfettibile però avevano questa duplice funzione insisto miglior partecipazione usando l'esperienza e la conoscenza di tutti eliminazione per quanto sia possibile di questa dissimmetria della informazione che le persone che partecipano ai nostri dibattiti molto spesso ci dimostrano di avere bisogna spendere moltissimo tempo per fare in modo che tutte le persone siano allo stesso livello e alla fine creare effettivamente questa partecipazione che invochiamo tutti ma che abbiamo effettivamente difficoltà alla fine a portarci a casa io penso che questo sarà un regolamento che effettivamente anche questo noi lasciamo come patrimonio della prossima amministrazione poi dipenderà dalla volontà fino in fondo di esercitare e di usare le cose che noi stiamo tracciando e in un certo senso sarà anche un'indicazione di quanto effettivamente la partecipazione poi dall'amministrazione stessa vorrà essere giocata fino in fondo ecco l'ultimo passaggio la faccio anch'io sulla sull'ampiezza di chi deve partecipare perché il tema dei degli immigrati nella nostra città non stiamo parlando dei profughi di adesso stiamo parlando degli immigrati cioè gente che qui da un bel po' di tempo è un tema che bisogna avere anche qui vedendo l'ora la franchezza di affrontare cioè prima o poi queste persone saranno parte anche istituzionale della nostra comunità che noi lo si voglia o non lo si voglia perché chi è nato qui o è arrivato qui da piccolissimo quando ha 18 anni voi capite bene che ha un percorso privilegiato già oggi nell'acquisizione della cittadinanza e diventerà un cittadino ed è un elettore a tutti gli effetti molto molto brevemente allora il nostro Riccardo no lo sforzo che noi abbiamo fatto proprio attraverso il consiglio comunale dei ragazzi in questi anni è stato sempre quello di avere una possibilità particolarmente includente di tutti i ragazzi di tutti i ragazzi e ve lo ricordo noi non facciamo un consiglio comunale in cui in un certo senso in scala ripetiamo le formule le elezioni no noi vogliamo che queste persone siano normalmente coinvolte nello svolgimento di un tema e diano all'amministrazione delle indicazioni su cui poi in genere cerchiamo di misurarci l'anno successivo allora normalmente noi chiudiamo il consiglio comunale dei ragazzi con la consegna come Marco Salvador ha rammentato con la consegna di questo certificato di cittadinanza consapevole chiediamo a tutti quelli che escono dalla terza media insomma finiscono le medie e vanno le superiori allora l'abbiamo detto tante volte è evidente che questo è un atto simbolico ma un atto simbolico che noi facciamo e abbiamo istituzionalizzato proprio per far sì che la vicinanza di tutti specialmente dei ragazzi qua non faccio distinzione dei ragazzi alle istituzioni e al dibattito politico sia per loro qualcosa di naturale e non di artificiale si abituino a questa partecipazione alle vere discussioni della città da sempre e non abbiano il timore di venirci a rompere le scatole se poi gli adulti fanno la politica in un modo o nell'altro perché debbono far parte della discussione politica l'unico modo è convincerli che alla fine non siamo così distanti il motivo per cui il consiglio dei comunali consumi dei ragazzi costa e noi mettiamo nel nostro budget dei soldi per questo ha in realtà la funzione di un vero investimento per il futuro per la nostra comunità e questo è il mio personalissimo giudizio di soldi ne mettiamo troppo pochi perché ne dovremmo mettere dieci volte di più se effettivamente fino in fondo volessimo esercitare questa funzione quindi il fatto che qui si accenni in modo chiaro che A vogliamo includere fino ai sedicenni sedicenni e che alla fine vogliamo includere anche la parte degli immigrati o di chi ancora non ha la cittadinanza fa parte di una visione politica che noi abbiamo cercato di sviluppare in questi anni perché siamo assolutamente consci siamo assolutamente consci non mi interessa affatto che questo sia un tema elettorale non mi interessa affatto siamo assolutamente consci che questo è il vero tema di Pordenone perché se il 15% della popolazione di questa città è costituita da immigrati è ovvio che prima e poi come per i nostri immigrati o emigrati negli Stati Uniti in Germania dove diavolo volete voi sono oggi parte costituente di quelle nazioni anche questi saranno parte costituente della nostra città che ci piaccia o non ci piaccia è il motivo per cui quella indicazione così precisa è stata inserita nel regolamento grazie grazie signor sindaco bene dichiaro aperte le dichiarazioni di voto consigliere Loperfido prego grazie presidente signor sindaco guardi che dire magari fanno in tempo a cambiare ancora idea perché guardi perché è stato spiegato sono state spiegate le ragioni politiche che vi hanno portato a questo gesto e va bene ma voglio essere veramente breve perché assolutamente voglio evitare di arrivare alla mezzanotte anche questa sera qua la questione delle commissioni è giustissima e infatti invito sindora il presidente della seconda commissione a prevedere che successivamente alla commissione di giovedì prossimo si convochi nuovamente un'altra commissione prima di arrivare direttamente in consiglio comunale a discutere il piano regolatore senza aver senza aver visto in modo approfondito senza aver visto in modo approfondito il regolamento che andremo ad analizzare nella seduta di giovedì perché non è possibile che si analizzi il regolamento giovedì e poi si dia per scontato che vada bene e si va in consiglio comunale cosa 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 dica guardi io dico che se vogliamo affrontarle bene le cose come ha detto anche lo collega Freschi come ha detto anche la collega Freschi non si può pretendere che un argomento affrontato in commissione sia dato per scontato che vada bene poi è ovvio che si arriva in consiglio comunale e si deve affrontare in modo approfondito ma siamo arrivati all'approvazione di questo documento che non sapete neanche voi in realtà cosa state dando vita c'è un blob informe per cui questo va bene ma anche il contrario di questo va bene la cittadinanza va bene ma anche chi non ha la cittadinanza va bene che poi siano magari i che non so i mille cinesi che sono pronti a votare anche le primarie del PD li prendiamo lì li mettiamo a votare anche per le consulte a Pordenone va benissimo non si capisce che cosa volete dare vita è proprio per questo che non avendo condiviso l'abolizione della circostruzione e men che meno riuscendo a capire a che cosa state dando vita noi non è che possiamo prendere e partecipare insieme a voi a questa prova di forza perché avete fretta ormai di approvare tutto è il contrario di tutto magari anche cambiando le regole all'ultimo momento dicendo oggi si può segnare anche in fuorigioco anche buttandola dentro con la mano l'importante è votarla perché dobbiamo farla assolutamente oggi bene siamo contro il principio e quindi per questo non capendo neanche a cosa state dando vita non possiamo assolutamente prendere parte a questo voto grazie consigliere consigliere Piccin prego grazie presidente è vero Bruno la fiducia è una cosa seria e volevo dire due parole veramente molto brevi perché a seguito del dibattito che c'è stato giustamente correttamente chi porta fino in fondo difende questo lavoro però credo che alcune questioni vadano precisate almeno per me perché rimangano averbale senza alcuna presunzione che si debba pensare in questo modo io ho già stato citato molte volte ma lo ricito anch'io credo che l'intervento del collega freschi abbia avuto un equilibrio e una come dire buona buona idea e un grande insegnamento per tutti quanti noi anche per chi come lui si trova e pensa diversamente da me per certi aspetti e vado subito al tema quello tra virgolette più spinoso cioè quello degli immigrati allora io non sono d'accordo sul fatto che si debba abbassare l'età a 16 anni e invece sono d'accordo sul fatto che gli immigrati possono partecipare ma sono dell'idea della prima idea di freschi quella che lui ha dovuto ritirare perché fa parte di quella maggioranza cioè dopo che le persone che sono arrivate qua diventano parte della città sanno dove sono hanno fatto un percorso di integrazione seria e conoscono la lingua perché altrimenti includere in questo persone che non conoscono la nostra realtà credo che poco possa far bene anche alla loro comunità e diventino come dire poco funzionali a quello che deve essere il compito che loro debbano svolgere mi trovo poi d'accordo con un'altra parte degli interventi cioè il fatto che qualcuno qui questa sera ha detto ma la la politica insomma non rappresenta più i cittadini e quindi dobbiamo trovare delle riforme delle possibilità alternative per acquisire nuovamente e fare in modo che la gente partecipi alla vita cittadina ma guardate io auguro a tutti noi che queste qui siano il mezzo giusto ma non ne sono assolutamente convinta l'interesse per la città per la cosa pubblica e anche per l'assemblea di condominio diventa sempre più difficile allora va benissimo riprendo il ragionamento di prima sulle consulte tematiche su tutto il resto non credo che noi con questo riusciamo a farlo possiamo stimolarlo ma la partecipazione è una cosa bilaterale non è che perché tu la vuoi allora ti torna indietro e no non funziona così neanche un po' perché costa fatica proporre esserci risolvere perché ci sono i bambini da portare a scuola c'è bisogna organizzare la famiglia c'è il lavoro sperando che ci sia e quindi il tutto deve essere come dire conglobato in quella che è l'attività di ciascuno di noi e se non c'è veramente un interesse principe all'interno di ciascuno di noi non credo che questa sarà la soluzione devo dire che utilizzare espressioni del tipo le consulte formate dai migrati devono esserci perché queste se non sono così ci saranno tensioni sociali e queste sono la soluzione alle tensioni sociali io rispondo magari fosse così magari magari che questi strumenti servissero ad avere un equilibrio e a risolvere questo tipo di problema che nella nostra città si è manifestato in modo come dire marginale no ecco prego certamente ma non con le consulte deve concludere consigliere concludo dicendo che presidente il voto sarà contrario e il lavoro che è stato fatto non è stato un lavoro come qualcuno ha detto lungo cinque anni ma è un lavoro degli ultimi mesi sollecitato da una parte di governo e sostenuto da una parte che al governo non è grazie grazie consigliere consigliere Cabibbo prego grazie presidente telegraficamente visto anche appunto l'orario io credo che abbiamo perso l'ennesima occasione e l'amministrazione pur a fronte anche dell'invito che è venuto da dall'opposizione di in qualche modo ritirare per cercare di migliorare anche il testo ma non è una questione solamente formale è proprio anche una questione che qui vogliamo introdurre uno strumento di partecipazione senza che chi lo propone è capace di dimostrare di creare una vera partecipazione anche nella produzione di questo testo allora ringrazio veramente anche il collega Freschi perché è stato da un punto di vista intellettuale onesto nel evidenziare che forse era il caso di approfondire era il caso di studiare un po' meglio era il caso di parlarsi cioè adesso non voglio strumentalizzare quello che ha detto il collega Freschi ma non vi siete parlati neanche tra di voi cioè siete arrivati qua con un testo buttato lì raffazzonato quindi questa cosa che sarebbe stato molto più dignitoso ritirare per poter eventualmente dare qualcosa di utile ai cittadini pordenonesi non si può non si può votare credo anche che come consiglio comunale per l'ennesima volta abbiamo fatto anche una pessima figura se coloro i quali si iscriveranno per partecipare alle consulte si andranno a vedere la registrazione di questa sera beh forse gli passa anche la voglia di partecipare quindi comunque non parteciperò al voto bene grazie bene dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di arrivio alle procedure di votazione ovviamente allora gli emendamenti sono stati distribuiti vengono votati prima gli emendamenti non viene votato l'emendamento 1 perché proviene dall'amministrazione pertanto ovviamente questo non potrà essere posto a votazione bene allora il primo emendamento presentato è quello che porta al numero 2 presentato dal consigliere Sperotto dal consigliere Sperotto solo il consigliere Sperotto però l'ha sottoscritto questo va bene allora pongo in votazione l'emendamento numero 2 alla proposta di deliberazione numero 6 2016 di approvazione del regolamento delle consulte comunali dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 31 votanti 30 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 2 astenuti 4 l'emendamento è stato approvato pongo ora i voti l'emendamento numero 3 sempre alla proposta numero 6 2016 presentato dai consiglieri Freschi Sperotto Palmisano dichiaro aperte così come modificato perciò ma gli scusatori sono necessari quando ci sono dei sì sì o sostituisco vabbè se no sostituisco il consigliere Pedicini e nomino il consigliere Alessandro Sperotto bene allora l'emendamento numero 3 sì grazie consigliere Pedicini l'emendamento numero 3 così come modificato con l'intervento del 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 consigliere Freschi bene dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 15 favorevoli 23 contrari 2 astenuti 4 l'emendamento è stato approvato pongo ora i voti l'emendamento numero 4 presentato da adesso dunque consigliere Solarino Sperotto Salvador Bianchini per tutto il fiume e poi gli altri bevi l'acqua e poi c'è un altro nome che non è freschi bene dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 15 favorevoli 23 contrari 2 astenuti 4 l'emendamento è stato approvato bene passiamo ora alla votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 6 2016 approvazione del regolamento delle consulte comunali così come emendata dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari 3 astenuti 3 la deliberazione è stata approvata eseguibile pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 29 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari 3 astenuti 3 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene signori sono le 23 52 dichiaro chiusi i lavori e il consiglio comunale verrà riconvocato a domicilio scusate avviso i consiglieri che la convocazione per il prossimo consiglio di lunedì prossimo sarà alle ore 9 cose così come deciso in commissione capigruppo lunedì prossimo scusate alle 15 ho detto 9 scusate alle 15 scusate rettifico alle ore 15 chiudette grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.